ragazzi noi siamo in diretta andiamo andiamo si inizia dai ok ciao a tutti benvenuti scusate il piccolissimo ritardo ma c'è sempre qualche inconveniente tecnico che non dipende da noi benvenuti a tutti e vi presento velocemente gli ospiti che ho con me con la maglietta rosa non so se si vede a destra o a sinistra abbiamo Diego il dottor Diego Adamo in basso con la camicia bianca abbiamo Mariano Satta ciao a tutti e dall'altra parte Gerardo Frustaci ciao buonasera bene ragazzi allora siamo pronti a entrare nel vivo allora in questa diretta saluteremo anche qualcuno di voi che ci ha scritto e che magari per qualche motivo o per le domande che ha fatto o per altri motivi insomma abbiamo scelto non abbiamo preferenze particolari ma scegliamo alcuni messaggi che possiamo portare a termine naturalmente non possiamo salutare tutti perché siete in tanti per iniziare vorrei salutare Gianni Balducchi che è un nostro carissimo amico che purtroppo ha avuto un incidente abbastanza importante e quindi è dovuto stare fermo per molto tempo e sta sperando di tornare in acqua presto ciao Gianni ti auguriamo di tornare in acqua il più presto possibile ciao Gianni in bocca all'uvo un abbraccio grande saluto di nuovo tutti voi che ci state seguendo e entriamo adesso nel vivo del nostro argomento allora noi ci siamo impegnati molto per mandare avanti questa diretta è un bel lavoro insomma non è una roba che si fa così all'improvviso vi chiediamo anche a voi un piccolo sforzo mi raccomando è importante il vostro like e la vostra condivisione per far vedere a tutti gli amici pescatori in apnea questa nostra diretta quindi piccolissimo sforzo dai ce la possiamo fare avanti ragazzi stasera parleremo di pesca in apnea e nel basso fondale che in genere è l'attività di pesca più frequentata anche se da quello che vediamo ultimamente soprattutto nei social sembra che la pesca in basso fondale sia veramente passata di moda sembra che sono diventati tutti i profondisti dico sembra perché poi nella realtà vi posso garantire io ve lo posso garantire al cento per cento molti di quelli che vediamo che professano grandi non dico tutti ma molti poi in realtà stanno solo facendo tentativi ma la pesca nel basso fondale resta sempre l'attività che poi alla fin fine regala più pesce per cui noi stasera vogliamo affrontare quella che è la realtà non quella che è la fantasia molti che pensano che i pesci si prendono solo profondi secondo me sbagliano perché pesci si è vero che profondi sono più facili ma nel basso fondale ci possono essere le emozioni più importanti e noi stasera vogliamo cercare anche di dimostrarvelo per pescare bene però in basso fondale ci servono diverse cose importanti per spiegarvele ci vuole tempo quindi naturalmente vi chiediamo pazienza affronteremo tutti gli argomenti un po' alla volta per fare chiarezza vorrei partire da quella che è la realtà che vediamo sui social quello che vi stavo accennando prima il problema grosso secondo me è che c'è troppa confusione allora i social sono importanti non è che li sto sottovalutando il fatto stesso che siamo qui con voi ne è la dimostrazione è uno strumento che prima non c'era e quindi in questo caso veramente positivo il lato negativo è che spesso sui social si vede tutto e si sente di tutto e molte volte non sappiamo cosa è corretto e cosa non è corretto e questo porta confusione non voglio dire con questo che solo noi possiamo dire ciò che è vero noi siamo qui per cercare di aiutarvi però in realtà troppe parole e troppi pensieri creano confusione lo dimostra il fatto stesso della nostra politica quante volte vediamo in televisione tre politici che dicono tre cose completamente diverse non è facile sapere chi dice la verità non è facile sapere chi ha ragione nessuno si può arrogare la ragione noi cerchiamo di fare chiarezza poi il giudizio lo darete voi quello che noi vi suggeriamo sarà quello che dovrete cercare di prendere come stimolo per poi metterlo in pratica quindi cerchiamo di togliere un po' di confusione come obiettivo ci proviamo e cerchiamo di fare un po' di chiarezza ovviamente per la pesca in basso fondale questo vale ancora di più perché stiamo parlando di un'attività di pesca dove il pesce è molto difficile e dove la tecnica si esalta ovvero mentre in profondità a volte si possono commettere anche degli errori tecnici ma il pesce comunque è più facile nel basso fondale basta il minimo errore il pesce non lo prendiamo non sto parlando di sicurezza parlo proprio di tecnica quindi a livello tecnico il basso fondale è chiaro che è la parte di mare più difficile perché anche quella più frequentata più battuta e dove ci sono una serie di difficoltà che vedremo tra poco come per esempio l'assetto della zavorra che spesso in profondità non è un grande problema ma nell'acqua bassa diventa importantissimo perché se si galleggia come delle boe o si sbatte sul fondo come un sacco di patate è veramente difficile prendere un pesce quindi basso fondale significa fare molta più attenzione del solito allora il primo obiettivo che vogliamo portare avanti come dicevo è quello di fare chiarezza per cui dovremo affrontare una serie di argomenti ci sono persone che tante volte pensano che ciò che sentono dire o ciò che leggono magari è la soluzione definitiva il problema principale di solito è che tra la teoria e la pratica passa tanta differenza quindi dobbiamo cercare di capire in teoria ciò che va fatto ma poi dobbiamo lavorare molto sull'aspetto pratico e questa è la vera differenza se non si lavora bene sull'aspetto pratico diventa tutto più difficile ok qui arrivano alcuni messaggi Marco su te ti interrompo arrivano alcuni messaggi in cui dicono che arrivi a tratti praticamente l'audio sì l'audio di voce disturbata e non so da cosa possa dipendere speriamo ho provato a toccare il jack delle cuffie non so se si sente meglio adesso sì adesso va bene va meglio sentiamo anche cosa dicono loro magari forse non era messo bene bene il jack allora fatta questa breve premessa lascio la parola a mariano e poi dopo passiamo agli argomenti veri e propri parliamo di pesca nel basso fondo dove non si può sbagliare il tiro sui pesci le azioni devono essere mirate serve una grande tranquillità serve una grande idrodinamicità serve proprio una infinita tensione in tutto quello che concerne la la tecnica servono attrezzature ben studiate delle attrezzature tecniche e soprattutto si deve lavorare su quella che quelli che sono i nostri movimenti quelle che sono le nostre azioni perché sì nel sentite come audio sì va bene va bene perfetto pensavo che avevi terminato mariano scusa ah certo certo scusa di nuovo dai facci il cenno quando è finito perfetto l'obiettivo della pesca nel basso fondo è quella di fare meno errori possibili perché i pesci sono allertati sono sopravvissuti a mille insidie ed è rispetto alla pesca profonda io la ritengo molto molto più impegnativa forse anche più difficile ok diego velocemente grazie guarda sì per me credo che sia difficile molto la la zavorra io qui nel lazio trovo difficoltà soprattutto nel nel capire ancora bene alcuni alcuni tratti di costa perché vivo qui da poco però in realtà ho avuto più soddisfazioni con grandi catture nel basso fondo che non in profondità più elevate quindi è molto difficile ma secondo me l'esperienza in acqua poi alla fine di premia gerry è il basso fondo la mia disciplina preferita in assoluto ma non soltanto perché erroneamente si possa pensare perché uno non è preparato fisicamente perché è una disciplina che dà delle grandissime delle grandissime soddisfazioni per lo meno per come la vedo io parte da terra la pesca a basso fondo da prima di entrare da quello dall'attrezzatura che ti porti a che porti con te quando entri in acqua se riesci a fare una cattura perché non sempre la fai ci stanno anche pescatori come me che non sempre fanno catture e torno a casa con bel cappottino come lo chiamano bel cappottino a tre bottoni e niente bene bene grazie anche a gerry allora prima di entrare negli argomenti faccio un altro saluto salutiamo roberto riccioli o riccioli scusa roberto non so ciao e al tempo stesso saluto tutti i presenti ancora una volta grazie di essere qui con noi andiamo nel vivo dai per noi ripeto sono molto importanti i vostri contributi quindi i vostri commenti i vostri like le vostre condivisioni ci aiutano perché naturalmente ci fanno capire anche l'interesse che c'è bene chi ha qualche problema per catturare dei pesci spesso e volentieri inizia a guardare verso determinati orizzonti che sono quasi sempre gli stessi si pensa per prima per prima magari all'apnea al fucile più potente alle solite tre o quattro cose che sono eclatanti e che fanno effetto ma in realtà spesso e volentieri la differenza la fanno altre cose non esclusivamente altre cose ma altre cose messe insieme che è in pratica la presentazione che facciamo questa sera sono quattro cinque argomenti che tutti insieme possono fare la differenza quindi non ci dobbiamo concentrare solo su qualcosa o solo sull'apnea o solo sull'allenamento o solo sul fucile dobbiamo cercare di avere un po' tutto altrimenti la differenza non la vediamo e spesso sono proprio le cose più semplici che riescono a dare la differenza anzi a volte in questo come dicevo prima in questo contesto di grande confusione dove persone che non sanno nemmeno compensare in maniera semplice cercano di fare le compensazioni più estreme perché hanno sentito qualche esperto spiegare una compensazione che di solito si fa solo a 40 50 metri magari non sanno nemmeno compensare non imparano a compensare in modo semplice ma vanno subito a provare la cosa più difficile eccola che poi sbattono contro un ostacolo enorme e a volte magari si arrendono anche quindi questo era solo un esempio è quindi il mio consiglio prima di tutto è cercare di fare le cose semplici perché le cose semplici sono le più necessarie quando siamo diventati bravi si può cominciare anche a fare cose un po' più complicate per esempio una delle cose più importanti che io ho visto in diciamo in veste da istruttore quindi parlando con le persone è che tantissimi soffrono di condizionamenti mentali quindi stati di ansia fretta paura di sbagliare come si può dire quella situazione di fastidio per cui in quel momento lì non si sentono adeguati quasi una sensazione di incapacità ecco questi sono tutti i condizionamenti mentali che spesso poi vanno a fare la differenza anche nella stessa azione per cui questo è uno degli argomenti che tratteremo per prima giusto per farvi un esempio ma fatevi la domanda quanti di voi gli danno importanza a questo aspetto qui magari qualcuno lo fa ma sono sicuro che lo farà forse se va bene il 10 per cento delle persone mentre il 90 per cento magari nemmeno se lo domandano se sbagliano perché sono ansiosi perché magari sono frettolosi o perché sono condizionati da altri stati d'animo eppure nella nostra disciplina nella pesca in apnea questo è uno degli argomenti più importanti in assoluto ma non se ne parla mai perché se si parla di questo le persone si annoiano e invece è molto importante comunque oltre questo parleremo anche di vari aspetti tecnici adesso ve le presentiamo uno a uno vediamo adesso attraverso un breve video le cose che sono più importanti e che affronteremo stasera adesso provo a lanciarvelo eh datemi solo un secondo si vede? nel frattempo ancora non si vede nel frattempo arrivano tanti tanti saluti per Mariano tantissimi saluti per Marco è andato? sta partendo via bene per fortuna vai ci siamo allora primo argomento e tratteremo quello che vi anticipavo controllo mentale una brevissima spiegazione su quali sono i problemi principali che di solito ci portiamo dietro poi affronteremo l'equilibrio della zavorra cioè l'assetto come fare per avere un assetto giusto naturalmente lo spiegheremo in maniera per quanto possibile con il tempo che abbiamo a disposizione in maniera abbastanza buona ma non super approfondita parleremo di quanto è importante l'acquaticità quello che diceva Mariano l'armonia del movimento perché nel basso fondale bisogna essere come dei pesci parleremo delle scelte tecniche cioè quando conviene fare l'aspetto quando l'agguato, quando altre cose e infine come ultimo argomento vedete sono cinque parleremo di tutte le scelte tattiche la strategia tutto quello che può condizionare la presenza del pesce ecco con questo video vi abbiamo presentato quelli che sono gli argomenti che ora uno a uno andiamo ad affrontare benissimo siamo tornati in diretta? ci siamo allora andiamo a vedere quelli che sono i nostri argomenti quindi partiamo dal famoso controllo mentale di cui si parlava prima allora innanzitutto se non siamo sereni non stiamo affrontando bene la nostra disciplina quindi il momento di pesca si riduce l'apnea diventiamo più rigidi nei movimenti quindi non siamo acquatici non siamo come dei pesci abbiamo delle tensioni corporee che i pesci percepiscono e avvertono loro della nostra aggressività per cui anche la tecnica si riduce quindi l'ansia in qualche modo riduce l'apnea riduce la nostra prestazione atletica riduce la prestazione tecnica riduce anche la capacità di essere lucidi e concentrati perché a quel punto spesso non riusciamo a capire dove sbagliamo non riusciamo a mettere in piedi una strategia non riusciamo ad accorgerci che magari c'è qualcosa di importante vicino a noi e lo vediamo solo all'ultimo non riusciamo a vedere un pesce che sta arrivando c'è un'infinità di situazioni negative ecco per cui limitare l'ansia ci aiuta non perché siamo malati eh badate bene non sto parlando di un'ansia eh cronica tipo da malato mentale sto parlando di quello che tutti abbiamo ce l'ho anch'io non pensate che a me non succeda e l'ansia può causare un sacco di errori anche molti atleti bravi spesso e volentieri sbagliano delle gare perché in quella gara non sono riusciti a controllare la loro ansietà per cui anche noi dobbiamo imparare a capire che esiste e ci dobbiamo ogni tanto concentrare per capire se la stiamo gestendo oppure no una cosa importante nei condizionamenti mentali in generale è quello di porsi obiettivi semplici perché come dicevo prima se ci poniamo un obiettivo molto semplice lo raggiungiamo e quindi è sicuro se ci poniamo un obiettivo difficile cioè cercare di fare qualcosa che non siamo all'altezza di fare spesso e volentieri facciamo degli errori ancora più gravi e abbiamo appunto quella sensazione di incapacità che poi non fa altro che penalizzarci ancora di più il massimo è obiettivi semplici facili e ogni volta che lo raggiungiamo ci premiamo con una specie di autogratificazioni della serie oh finalmente sono riuscito a fare questo sono stato bravo adesso posso passare all'obiettivo successivo se vogliamo subito andare faccio degli esempi perdonatemi banali vogliamo subito andare a una certa profondità vogliamo subito catturare il super pesce della vita spesso e volentieri portiamo a casa solo delusioni se partiamo con l'idea chiare dobbiamo iniziare da profondità dove stiamo bene catture che siamo all'altezza di fare situazioni facili da gestire allora in questo modo cresciamo andiamo avanti e un po' alla volta diventiamo sempre più bravi questo è il nostro obiettivo fondamentale piccoli passi gratificando autogratificandoci un po' alla volta questo è importante di questi argomenti non se ne parla mai ma valgono per tutti dall'atleta bravo al principiante che ha iniziato proprio pochissimo tempo fa mi veniva da dire ieri ma non torna ieri non era possibile comunque un'altra cosa molto 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 importante dei condizionamenti mentali questa la voglio ribadire con forza perché è la cosa secondo me che conta più di tutti nella pesca in apnea è la concentrazione quella lucidità che ci permette di essere attivi mentalmente dietro la concentrazione ci sono tanti aspetti fondamentali come la capacità di vedere un piccolo dettaglio sul fondale come dicevo prima la capacità di costruire anche sul momento una strategia la capacità di rendersi conto di tante piccole cose che senza la concentrazione non riusciamo mai a vedere secondo il mio punto di vista e questo è un mio parere lo sfortunato cronico in realtà è un distratto cronico il fortunato quello che da tanti viene considerato fortunato è una persona che ha un'alta capacità di concentrazione e guardate bene la concentrazione non è una fortuna averla o una dote che c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha è solo una questione di volontà se vogliamo essere concentrati lo possiamo fare ma dobbiamo avere la volontà di crederci e di attivare appunto questa concentrazione perché la concentrazione non è casuale la concentrazione si attiva o si disattiva quando diventiamo un po' più bravi dobbiamo imparare poi ad attivarla nel momento che serve e disattivarla nel momento che non serve vi faccio un esempio per restare sugli obiettivi semplici chi è principiante deve solo ricordarsi di essere concentrato anche se poi faticherà un po' di più del solito chi è un po' più bravo che la concentrazione è già capace a trovarla deve lavorare di più sull'attivazione e sulla disattivazione ovvero nel momento in cui faccio una pinneggiata di 10-15 minuti per spostarmi è inutile che sono concentrato quindi lì faccio lo scarico della concentrazione poi quando arrivo sul posto dove devo pescare devo riattivare al massimo la concentrazione bisogna che mentre pesco e sono sul fondo sia attivata al massimo anche per un fattore di sicurezza quando sono in superficie quando mi sposto a pinne quando faccio delle cose che non sono importanti posso anche ridurla in modo da riposare il cervello perché anche il cervello si stanca 4 ore di concentrazione al top non ce la fa nessuno a tenerle non dico nessuno ma pochi per cui anche quelli bravi devono imparare ad attivarla e disattivarla questo è molto 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 importante ricordatevelo sempre quando state pescando ogni tanto ricordatevi di me e ricordatevi queste parole sono concentrato o sono distratto questo vi aiuterà tantissimo anche se sembra molto banale bisogna cercare di ottimizzare al massimo il tempo che abbiamo a disposizione perché comunque poi è importante anche questo aspetto qui molte persone perdono tanto tempo in cose stupide che non servono a niente quindi dobbiamo diventare bravi ad ottimizzare e anche questo è un altro aspetto che avrebbe bisogno di essere spiegato con calma ma stasera non ce l'abbiamo il tempo per cui ricordatevi solo la parola ottimizziamo tutto al massimo anche per esempio la preparazione del tuffo in basso fondale è qualcosa che va fuori dai canoni dell'apnea perché se io vi faccio un esempio semplice se io in basso fondale mi preparo come si prepara un apneista bravo quindi con tutti i canoni dell'apnea che non sto qui a spiegarvi una preparazione di minuti minuti e minuti io nell'arco di un'ora ho fatto pochissimi tuffi e non prendo un gran che di pesce nel basso fondale bisogna ottimizzare è meglio un'apnea un po' più breve ma con un bel ritmo che fare lunghissime apnepe e lunghissime preparazioni e poi quando siamo sul fondo non bisogna intestardirci su cose che ci rendiamo conto che non funzionano dobbiamo cercare a volte di essere bravi anche a lasciar perdere a eliminare quello che non ci dà un risultato e cercare di andare subito appunto ad ottimizzare questi sono tutti aspetti più mentali che tecnici ovviamente se si fanno le cose giuste il risultato arriva questo vale per tutti ragazzi sia per chi all'inizio sia per chi è un po' più bravo queste sono regole fondamentali Gerardo che ne pensi di tutto questo? penso che è difficile parlare dopo tutte le cose che hai detto tu perché hai fatto un sunto in pochissimi minuti veramente di un'incicopedia della pesca in apnea perché perché purtroppo ci sono alcuni alcuni fattori che potrebbero rovinare la pescata o quantomeno inficiarla in parte l'ansia come dicevamo prima determina tantissimo l'esito di una pescata l'ansia poi l'ansia può essere provocata dall'attrezzatura stessa insomma esatto una muta non molto comoda una cosa sbagliata arrivi al mare non trovi le condizioni che pensavi esatto un problema mille cose uscendo da casa dentro la cassetta hai trovato a bolletta dalla luce mentre vai a pesca la moglie ti dice ma non devi andare a pesca sei sempre a pesca devi stare a casa quello 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 pure quello pure quello pure incide tantissimo Diego tu che dici va bene mentre parla Diego scusate Diego un secondo mentre parla Diego Gerardo ci puoi mettere qualche bella cattura qualche foto di belle catture in basso fondale sì qualche bella cattura del signor Mariano del signor Mariano esatto grazie del signore Diego la domanda a te per te scientifica sì magari dici scientificamente a livello fisiologico che cosa comporta l'ansia guarda Marco semplicemente aggiungo per non andare troppo nei dettagli che a livello neuroendocrino succedono delle reazioni biochimiche soprattutto una forte produzione di adrenalina quindi ne consegue un aumento della frequenza cardiaca un consumo di ossigeno esagerato più insomma di quello che realmente ne necessitiamo per una per una battuta di pesca in apnea o per un tuffo e una vasocostrizione una rigidità muscolare una rigidità articolare quindi un maggiore dispendio energetico tutto questo ovviamente va a gravare non solo sull'esito di eventuale cattura ma soprattutto ai fini della sicurezza della nostra salute e anche della prestazione sì 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 io preferisco io dico sempre anche ai miei pazienti qualche paziente insomma pescatore in apnea o apneista consiglio di fare pochi tuffi ma più di qualità che non cento tuffi ma con ansia stress paure eccetera eccetera aggiungo io aggiungo io in qualità di istruttore vi posso garantire che conta di molto di più imparare a gestire l'ansia che allenarsi quattro ore al giorno in modo massacrante fa più apnea uno che riesce a gestire l'ansia di un altro che si cioè faccio un esempio se io mi alleno tutti i giorni un quarto d'ora a secco su esercizi mentali ottengo molta più apnea di quello che si allena tre ore con esercizi atletici soprattutto quando siamo a livelli bassi cioè principianti certo che l'atleta che si sa gestire a livello mentale potrà trovare un beneficio solo con l'allenamento atletico perché oramai a livello mentale è arrivato ma chi è all'inizio che ha un spesso e volentieri anche senza rendersi conto dei limiti a livello mentale ripeto non perché è malato ma perché non ci pensa proprio prima che supera quello stato d'ansia si allena come un matto e continua ad avere la stessa apnea poi il giorno che impara a capire che l'ansia incide tantissimo ci lavora anche pochissimo fa subito un salto di qualità per cui ragazzi ricordatevi bene queste parole bisogna lavorare su questi aspetti qua Mariano per concludere fattore ansioso è quello che compromette l'intera pescata se uno entra in acqua e non ha la capacità dell'autocontrollo può tranquillamente nel bassofondo uscire una cosa importante soprattutto per chi inizia è quella di la maggior parte degli appassionati partono da terra come da terra pesco io non pesco vado in mare quasi tutti i giorni ma le mie partenze sono al 98% da terra consiglio a tutti di sfruttare i primi 10 minuti proprio di adattamento all'acqua a quel punto deve partire la concentrazione e soprattutto l'autostima bisogna alternare i momenti di ricerca ai momenti di pesca vera e propria e quindi il bassofondo a seconda delle zone che ci sia acqua pulitissima o che ci sia torbida bisogna abituarsi non a guardare sotto di noi ma soprattutto guardare davanti come se fosse il nostro orizzonte percogliere quei piccoli segnali che ci possono indicare la presenza o l'assenza del pesce a volte bastano semplicemente dei piccoli fattori del bentos da un punto di vista morfologico del fondale che riusciamo immediatamente a capire se la pescata può essere proficua oppure no una delle cose importanti sì concludo solo in un attimo scusa pensavo avevi finito una cosa una delle cose più importanti io consiglio di dedicare tanto tempo allo studio della meteorologia del movimento delle maree dell'innesco della catena alimentare perché è quello che nel bassofondo permette di fare carniere finito bene tanto dopo lo vediamo più da vicino vediamo sì sì ragazzi vi chiedo scusa se andiamo un po' veloci ma gli argomenti poi alla fine comunque porteranno via molto tempo e cerco di velocizzare per non tenervi delle ore qui magari poi vi fa anche piacere stare delle ore con noi non lo so me lo auguro però cerchiamo di andare veloce è arrivato il momento di salutare un altro amico mike trimarchi io lo chiamo mike ma in realtà il suo nome vero sarebbe michael o michael non lo so esattamente anche in questo caso come si pronuncia però è un ragazzo che ci segue sempre ci scrive sempre quindi ciao mike ciao saluto anche tutti quelli che stanno scrivendo e vi ringrazio e naturalmente come abbiamo già detto non riusciamo a rispondere nemmeno non dico a tutti ma anche a pochi ma cerchiamo di mantenere la nostra scaletta al nostro programma perché alla fine parleremo di un po' tutto poi naturalmente in base a quello che ci scrivete ne terremo conto per la prossima diretta intanto andiamo avanti e già che ho accennato la prossima diretta verso la fine di questa qua vi daremo le indicazioni poi per la successiva bene passiamo al famoso equilibrio della zavorra il famoso discorso che è una delle domande che fate di più e che mi scrivete più spesso per spiegare bene alla perfezione questo argomento qui ci vorrebbe minimo tre quattro ore io anche qui cercherò di spiegarvelo in pochi minuti in maniera abbastanza efficace ma breve purtroppo non mi posso dilungare poi eventualmente se ci sarà l'occasione lo approfondiremo con altri metodi con altri video o con altre dirette insomma intanto partiamo dalla base di partenza allora levatevi tutti dalla testa e parlo dei principianti naturalmente il famoso detto che bisogna usare un chilo di piombo per ogni 10 kg di peso corporeo è una roba vecchia di oltre 50 anni fa che già da 30-40 anni è stata bandita e non esiste più solo che è uno di quei pregiudizi che si è tramandato nel tempo e adesso vi spiego perché è chiaro che se io pesco per esempio con una muta da 3 mm in 5 metri d'acqua può essere dico un esempio può essere che io sono 70 kg mi metto 7 kg può essere che e quei 7 kg vanno bene ma se poi con quei 7 kg e la stessa 3 mm invece di 5 metri vada a 20 metri non torno più su ecco che già si capisce che in base alla profondità la zavorra cambia tantissimo per cui non si può dire un chilo di peso di zavorra per ogni 10 kg di peso corporeo poi c'è un altro aspetto importante io sono 70 kg ma potrei avere una massa grassa superiore magari a Diego che è 70 kg ed è più muscoloso di me per fare un esempio quindi io galleggio avendo più massa grassa galleggio di più infatti se ci fate caso una cosa che spesso non viene sottovalutata le persone di colore raramente le troviamo nelle olimpiadi nelle finali di nuoto proprio perché sono spesso più muscolose e galleggiano meno quindi il fatto del peso corporeo diciamo del peso specifico della persona già incide tantissimo per cui quel famoso chilo ogni 10 di peso corporeo è molto molto relativo infine valutiamo anche il discorso della muta perché se uso la 3 mm non può andare bene un chilo per ogni 10 di peso corporeo se uso la 7 mm mi servirà il doppio di zavorra poi conta la tecnica poi conta la profondità contano troppe cose ora senza entrare nel dettaglio di ognuna di loro e senza dire il principio di Archimede che determina il galleggiamento senza fare i soliti discorsi limitiamoci a comprendere che il galleggiamento perfetto ce lo dobbiamo cucire su misura in base al tipo di muta al tipo di profondità al tipo di tecnica che stiamo utilizzando purtroppo è così io ho studiato una tabella in linea di massima che ci dà un'idea di base giusto per dire ok con quella muta a quella profondità più o meno mi serve quella zavorra ed è solo semplicemente una base di partenza poi la vedrete pubblicata questa tabella ancora non l'ho pubblicata perché la sto elaborando la voglio elaborare in modo preciso comunque la troverete pubblicata e in pratica diciamo che l'ideale sarebbe portarsi dietro almeno tre o quattro chili di piombo mobile cioè non quello che si usa per pescare profondo ma piombe a sgancio rapido e le prime volte che andiamo in mare per trovare questo assetto ideale dobbiamo essere in grado di spostare questa zavorra e noi dobbiamo arrivare a essere neutri a due terzi della profondità ovvero se pesco a sei metri devo essere neutro a quattro in modo che se sto subito sopra il fondale non sbatto sul fondo e non tendo a galleggiare questo è l'assetto ideale ci dobbiamo lavorare non c'è la formula magica dipende da noi ce lo dobbiamo regolare perdere 20 minuti per regolare l'assetto significa sicuramente prendere più pesce e fare una pnea migliore di quello che per pigrizia ecco un altro aspetto mentale di quello che per pigrizia non cambia più ombi e pesca tutte e quattro le ore sbattendo sul fondo galleggiando come una boa non facendo mai bene ciò che va fatto ci si ferma ci si ragiona si leva si toglie si aggiunge si trova la zavorra perfetta in pratica dobbiamo stare sempre vicini al fondale spiorandolo senza mai sbatterci e senza mai galleggiare è molto difficile da fare spiegarlo può essere anche veloce ma farlo è difficile ecco perché vi dicevo per spiegarlo bene ci vorrebbero delle ore ci vorrebbe di guardare molti video di analizzare molti dettagli intanto limitiamoci a questo che è già importante perché nel basso fondo la differenza della profondità come dicevo prima la zavorra diventa ancora più importante se io sbaglio di un chilo la zavorra in profondità posso sempre sganciare piombi e risalire agevolmente posso sempre sbagliare un po' la tecnica il pesce è più facile ma nel basso fondo se tendo a galleggiare mi concentro con la mano per aggrapparmi le pinne vanno in alto il corpo si imbarca come una banana è chiaro che l'apnea diventa limitata e facciamo tanto rumore impauriamo tutti i pesci che sono nei dintorni non vediamo niente infatti il principiante nove volte su dieci non vede un pesce perché è troppo galleggiante chi si sente goffo e troppo galleggiante probabilmente si riscontrerà in questa figura di cui sto parlando ecco che deve andare a lavorare proprio su questo aspetto qui non importa se saranno dodici, tredici chili non ha importanza ci vogliono i piombi che ci vogliono per esempio vi faccio l'esempio mio personale io d'inverno mi butto da terra pesco in cinque metri d'acqua con tredici, quattordici, quindici chili a seconda della muta muta, sottomuta di quello che metto passo dai dodici ai quindici chili poi d'estate magari pesco con quattro chili e pesco molto più profondo vedete che differenza si passa dai quattro chili ai quindici chili non ha importanza se ne servono quindici se ci vogliono ci vogliono dobbiamo usarli qualcuno arriverà anche a diciotto non per forza devono essere quindici o diciotto sto esagerando adesso sto facendo dei numeri casuali però io quando pesco in acqua bassa quando pesco in acqua bassa vi giuro che arrivo a mettere quattordici, quindici chili e ripeto sono settanta chili quindi non è che sono centoventi chili che ho bisogno di tanta zavorra perché sono enorme io sono settanta chili sono un metro e settantacinque uso quattordici, quindici, sedici chili a seconda dei casi poi basta che vada a dieci metri quei quindici chili diventano magari nove, otto capite? quindi dobbiamo sempre trovare quest'assetto ideale non lo possiamo stabilire con una tabella standardizzata dobbiamo avere una base di partenza sulla quale costruire poi la nostra zavorra lo nostro assetto ideale noi dobbiamo arrivare a controllare i movimenti come vedremo più avanti perché se non controlliamo i movimenti il pesce non lo prenderemo mai nel basso fondale sarà difficile quelli bravi non hanno bisogno di tutti questi aggiustamenti perché è venti anni che lo fanno o dieci oramai hanno sono riusciti a trovare piano piano passo passo queste situazioni gli sembrano del tutto normali magari sorridono anche quando sentono questi discorsi qua però ci sono arrivati in dieci quindici venti anni se un principiante ci vuole arrivare in tre pescate deve fare questo lavoro qui certo in una volta sola non ci si riesce ci vuole un po' di pazienza però a differenza di quello che ci ha messo vent'anni noi possiamo farlo magari due o tre volte se lavoriamo bene questo è il messaggio di base ok? come si distribuisce la zavorra? allora in base a quella che troveremo che sarà la nostra zavorra ideale facciamo un'ipotesi di dieci chili mettiamo si sta usando dieci chili a una profondità X normalmente parlando di basso fondale sapete che si utilizza conviene utilizzare cintura di zavorra schienalino per distribuirla meglio e cavigliere lo schema che conviene più di tutti utilizzare ma che poi alla fine comunque dobbiamo anche questo un po' aggiustarlo è quello di cinquanta per cento in cintura quindi cinque chili in cintura quaranta per cento sullo schienalino quindi quattro chili sullo schienalino dieci per cento sulle caviglie quindi un chilo in caviglie quattro chili schienalino cinque chili cintura questo è per dieci chili poi fate voi i vostri calcoli se invece di dieci sono dodici vi fate cinquanta per cento in cintura quaranta per cento schienalino dieci per cento cavigliere e ci si regola di conseguenza logicamente poi ci sono gli aggiustamenti calzare da cinque millimetri potrebbe aver bisogno di un po' più cavigliere che i dieci per cento calzare da due millimetri magari invece del dieci per cento avrà bisogno del cinque per cento pantalone da sette millimetri magari galleggia un po' di più del pantalone da cinque sono tutti aggiustamenti che come vedete dobbiamo fare noi se ci mettiamo qui a fare uno schema standardizzato di tutti i tipi di mute tutti i tipi di calzari tutti i tipi di profondità eccetera eccetera lo capite che diventerebbe un trattato infinito non avrebbe proprio fine quindi noi dobbiamo capire quelle che sono le regole che vi ripeto ce l'aggiustiamo noi per essere neutri a due terzi della profondità togliamo aggiungiamo per regolarci cinquanta per cento in cintura quaranta per cento schienalino dieci per cento cavigliere questa è una spiegazione rapida ma piuttosto efficace di come trovare l'assetto ideale poi per concludere questo discorso se peschiamo in Tana serve un tipo di assetto se peschiamo all'agguato un altro se peschiamo all'aspetto un altro se peschiamo in caduta un'altra ancora per farvela proprio breve breve in caduta specialmente se aumentiamo un po' la profondità bisogna cercare di cadere più lentamente possibile sul pesce ma senza pinneggiare quindi troveremo quest'assetto qua in Tana dobbiamo cercare di arrivare vicino alle Tane quasi neutri perché se comunque siamo negativi e andiamo a sbattere sul fondo quando ci affacciamo impauriamo il pesce all'aspetto è meglio un pochettino più negativi cioè arriviamo sul fondo ci appoggiamo e rimaniamo fermi all'agguato invece bisognerebbe stare 30 centimetri sollevati dal fondo senza galleggiare senza andare a sbattere sul fondo come vedete ogni tecnica avrà un suo aggiustamento magari un chilo più un chilo meno però ogni volta che cambiamo tecnica dobbiamo anche rivedere la zavorra e sta qui la grande capacità delle persone proprio quella di lavorare su questi accorgimenti e questo diciamo è più o meno tutto per quanto riguarda la zavorra ultimissimo consiglio per evitare che spesso le gambe vanno in alto cosa che tanti sentono o gli amici magari vedono mentre controllano la pesca del compagno per evitare che le gambe vanno troppo in alto e per cercare di essere più acquatici nel basso fondale è più conveniente tirare giù la cintura di zavorra sui glutei in modo che abbassa il nostro baricentro per cui i nostri glutei stanno più bassi a contatto col fondale riusciamo a muoverci meglio lo vedremo anche nei video che adesso seguono ci renderemo conto meglio di questi aspetti qui anzi vorrei lanciare un video di Mariano che ci ha preparato e ci spiegherà appunto questo discorso sull'aspetto e sull'idrodinamicità durante le azioni di pesca ti lascio la parola Mariano sì grazie in questo video vediamo un riassunto di tutto quello che tu hai appena detto appena descritto aspetto che parta in modo da poterlo commentare qua è iniziata la discesa per basso fondo si intende da 0 ai 15 metri non oltre quindi una pesca in medio fondale la cosa principale che io faccio è quella di guadagnare il fondo nel tempo più breve possibile la zavorra qua è calibrata è spostata come baricentro come hai appena descritto tu proprio sui glutei io non uso schienalini perché in tanti anni di pesca la schiena soffre dopo tante ore di pesca in media quando vado sui pesci pesco anche dalle 6 alle 8 ore sono medie molto molto alte perché nel basso fondo si può stare anche delle ore senza prendere un solo pesce e a volte si fa carniere soltanto pescando ad oltranza ma serve grande allenamento andare in mare tutti i giorni e non è una cosa alla portata di tutti una volta guadagnato il fondo come potete notare io mi muovo senza raschiare le pinne senza raschiare la muta con l'ausilio della mano sinistra con un avanzamento molto 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 lento e c'è la ricerca già del pesce sfrutto per mascherare le vibrazioni molto le asperità del fondo e potete vedermi in azione che osservo ovunque dappertutto il pesce può essere lontano da noi e essere catturato con la tecnica dell'aspetto qualora si stoppi un attimo come può essere anche preso in un'azione di agguato in Tana in questo momento io mi affaccio su una fenditoia dentro c'è una cerniotta da penso tre chili e mezzo sarebbe stato un bel pesce per tante persone normalmente le risparmio perché quelle sono una questione di etica nostra come pescatori su bar la ricerca del pesce l'idrodinamicità la potete valutare dai movimenti quando una zavorra è perfettamente calibrata permette di accarezzare il fondale come mantenere le quote come diceva Marco dei due terzi della profondità in modo da poter oltre a ricercare il pesce avere un'azione fluida idrodinamica che ci permetterà anche il proseguo di future azioni nel bassofondo le azioni di pesca sono infinite quindi bisogna andare anche con un grande risparmio delle energie senza eccedere con tutto bene grazie mille Mariano sì ci apre ci apre le porte per il prossimo argomento che sarà appunto io lo chiamo l'armonia subacquea quello che spesso viene definita acquaticità sappiamo tutti che cos'è è in pratica la capacità di muoversi bene sott'acqua come abbiamo visto ci stava spiegando Mariano è chiaro che non è che conti solo la zavorra poi ci vuole logicamente anche la capacità di percepire la posizione del corpo di tenere la posizione del corpo giusta vi faccio solo un piccolo esempio chi è un principiante spesso e volentieri ha bisogno di molta più zavorra perché non ha appunto questa sensibilità del corpo questa armonia nel tempo man mano che diventa sempre più bravo inizia e continua a togliere sempre più zavorra per dirla in breve un principiante potrebbe iniziare a pescare in 5 metri d'acqua che ha bisogno di 12 chili e magari dopo 2-3 anni che è diventato sempre più bravo quei 12 chili potrebbero diventare 8 chiaramente più si diventa bravi più diminuisce la zavorra perché appunto abbiamo questa capacità di armonia nei movimenti ecco che questo non ci parla solo di zavorra ci apre le porte soprattutto alla tecnica infatti adesso parliamo di armonia e subito dopo parleremo di tecnica perché senza l'armonia e senza la zavorra non si può pensare alla tecnica questo è il classico esempio dove se uno chiedesse qual è il segreto per fare meglio l'aspetto e uno gli spiega qual è il segreto per fare meglio l'aspetto se però non ha imparato bene questi passaggi precedenti della zavorra e dell'armonia chiaramente gli puoi dire tutti i segreti del mondo ma non otterrà mai un grande risultato bisogna andare per gradi come abbiamo già detto quindi l'armonia è uno dei cinque elementi fondamentali abbiamo visto condizionamenti mentali abbiamo visto l'assetto l'equilibrio della zavorra adesso stiamo guardando l'armonia che è il nostro terzo elemento quella capacità di sincronizzare i nostri movimenti di renderli lenti calibrati non aggressivi perché il pesce lo percepisce anche da lontano il principiante tante volte non vede il pesce perché è troppo rumoroso troppo frettoloso ad occhio non riesce a vederlo il pesce ma il pesce ha visto o ha percepito lui per cui si è già nascosto il pescatore bravo spesso lo vede perché appunto si muove bene è silenzioso è silenzioso non tanto come rumore ma proprio come movimento perché a volte ci si confonde con questo discorso della silenziosità nell'acqua non contano solo i rumori che si sentono con le orecchie in pratica il pesce ci percepisce molto di più con lo spostamento d'acqua per cui la loro capacità di percezione è più legata ai nostri movimenti che ai nostri rumori contano anche i rumori ma siamo sicuramente più efficaci quando siamo bravi a livello di armonia subacquea possiamo fare anche un piccolo rumore tant'è vero che alcuni richiami si fanno proprio con i rumori allora la prima cosa più importante scusate la prima cosa più importante in assoluto per quanto riguarda il discorso dell'armonia è il fatto che dobbiamo cercare di avere una velocità di azione ideale quindi lenta molto calibrata perché i pesci comunque come dicevo lo percepiscono da lontano avete visto nel filmato Mariano non sbatteva da nessuna parte riusciva a guardarsi intorno ma lo faceva lentamente anche quando ci guardiamo intorno la testa la dobbiamo muovere lentamente se la muoviamo veloce facciamo scappare i pesci se la muoviamo lentamente riusciamo a vederli e magari anche a incuriosirli perché quando ci muoviamo lentamente creiamo curiosità nel pesce quando ci muoviamo velocemente li impauriamo e basta poi molto 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 importante anche questo sottovalutato dal 95% delle persone è la mobilità articolare quella quell'elasticità sia muscolare sia articolare che ci permette di muoverci sott'acqua come dei pesci come delle murene che sfiorano il fondale ecco faccio un altro esempio io non ce l'ho con l'allenamento perché comunque è molto importante però anche stavolta spezzo una lancia a favore di altri argomenti cioè è inutile allenarsi quattro ore al giorno solo su allenamento atletico è molto più produttivo fare anche un allenamento proprio di elasticità sia articolare sia muscolare e questi sono i classici allenamenti che si possono fare a casa mentre l'allenamento proprio atletico spesso e volentieri lo dobbiamo fare fuori all'aperto o addirittura in mare il classico pescatore che dice io vado solo a pesca raramente riesce ad avere quell'elasticità articolare che può avere una persona che fa degli esercizi specifici e anche questo è un argomento che non fa molto effetto per cui viene trascurato da tutti ma è sbagliato perché se siamo molto elastici riusciamo a fare meglio le tecniche tutti i tipi di tecniche soprattutto quelle tipo l'agguato che comportano ovviamente questa grande armonia diventare proprio come muoversi proprio come dei pesci se ci fate caso i pesci sono lineari hanno sempre più o meno quella stessa velocità non sbattono mai da nessuna parte mantengono sempre quell'altezza dal fondo sono pronti a colpire ma al tempo stesso sono calmi noi dobbiamo cercare di essere in quel modo là per cui la nostra armonia è fatta di questo equilibrio della zavorra elasticità articolare capacità di controllo e si torna di nuovo agli aspetti mentali perché se mi lascio prendere dalla fretta mi muovo male e sono molto aggressivo per cui queste sono le cose principali anche questo è un argomento che sarebbe lungo da approfondire bisognerebbe lavorarci soprattutto in acqua perché molte persone glielo spieghi ti dicono che hanno capito poi andiamo in mare e fanno l'esatto contrario gli fai rivedere il filmato si rendono conto che in realtà hanno sbagliato e lavorandoci anche con i filmati si migliora molto quindi non pensate ho capito tutto sono a posto cercate di lavorarci con attenzione pensate mentre pescate a come vi muovete cercate di vedervi mentre pescate perché è molto molto importante e se volete fare un passo ancora in più fatevi riprendere con una telecamera da un vostro amico e riguardate le vostre azioni anche se non state prendendo un pesce sono minuti spesi bene aiutano tantissimo a diventare più bravi a diventare soprattutto più acquatici detto questo faccio di nuovo una domanda al dottor Diego per chiedergli appunto cosa si può fare anzi scusate stavo per dimenticarmi c'è una domanda proprio tirata in base a quello che volevo chiedere io a Diego ce la fa ce la fa Pasquale di Napoli dovrebbe essere di Napoli il cognome non so se di Napoli è il posto da dove ci ci ha scritto però Pasquale ci dice che dopo tanti anni di attività ha grandi problemi a livello articolare lungo tutta la colonna vertebrale soffre comunque anche di cervicale di altri tipi di dolori e così via se può fare qualche tipo di lavoro specifico per l'elasticità appunto articolare allora guarda Marco a proposito di questo argomento che è meraviglioso ed è però molto ampio vorrei condividere con tutti voi questa immagine che racchiude un po' di cose su cui vi posso spiegare alcuni dettagli non so se la vedete ditemi se la vedete sì ok ancora no così la vedete ancora non è caricata sta caricando forse è un file paesante vediamo adesso adesso si vede ok perfetto allora questi qui questo è un semplice schema diciamo senza andare troppo nel profondo un'immagine sul piano sagittale della colonna vertebrale quindi dalle vertebre cervicali fino all'osso sagro dove vengono rappresentati solo alcuni muscoli diciamo alcuni superficiali alcuni dello strato profondo ad iniziare proprio dalla gabbia toracica superiore in questa immagine qui e in questa immagine sul piano frontale i muscoli alcuni dei muscoli scaleni che sono anche degli elevatori delle coste le prime coste soprattutto quindi andando verso il basso arriviamo fino a diaframma e poi a dei muscoli così chiamati anche pelvi trocanterici che sono questi qui i principali sono dei flessori dell'anca quindi l'iliopsoas eretto del femore il muscolo iliaco e diciamo che per contrastare le rigidità articolari a cui noi andiamo incontro negli anni ma soprattutto per una perdita di acqua e un processo naturale di invecchiamento a cui tutti quanti siamo soggetti possiamo prevenire o possiamo preparare la nostra battuta di pesca andando a mobilizzare inizialmente le strutture periferiche rispetto al diaframma perché tutti quanti non sanno oppure si dimenticano che non è solo importante tra virgolette trattare bene il diaframma che è il muscolo ispiratore principale ma il diaframma ha delle connessioni anatomiche neurologiche vascolari fasciali muscolari tendine legamentose con diverse strutture annesse adesso sono delle strutture periferiche quindi muscoli superiori al diaframma quindi parliamo dello stretto toracico superiore che è questa zona qui muscoli inferiori quindi del bacino della piccola pelvi anche degli arti inferiori anche dei muscoli appartenenti alle scavole quindi la preparazione la mobilizzazione articolare dei distretti periferici prima di una battuta di pesca prima di entrare in acqua anche prima di indossare la muta in combinata con degli esercizi di stretching sicuramente ci favoriranno un migliore movimento una migliore acquaticità una migliore fluidità in acqua quindi una minore rigidità per ciò che riguarda per rispondere a Pasquale non è facile adesso individuare le varie cause dell'osteoporosi se così se di questo si tratta però sicuramente i fattori che portano ad eventuale artrosi della colonna vertebrale sono tanti quindi delle infiammazioni croniche che si hanno da anni l'alimentazione l'attività sportiva eccetera eccetera ma per ciò che riguarda proprio la pesca in apnea o anche un semplice tuffo in apnea è sempre bene preparare prima il corpo per poi affrontare meglio la battuta di pesca non so se bene Diego per non entrare troppo nel tecnico possiamo fare una promessa a tutti possiamo creare un protocollo di allenamento appunto alla mobilità articolare e poi magari lo pubblicheremo fra un po' di tempo quando sarà pronto oppure possiamo dire anche a Pasquale o a tutti quelli come lui che hanno dei problemi di scriverti privatamente ed eventualmente Diego ha anche uno studio a Roma dove può visitare e aiutare a risolvere tutte queste problematiche quindi se ci avete bisogno scriveteci e lo approfondiamo in seguito altrimenti adesso perdiamo rubiamo tempo magari a tutti gli argomenti tecnici però se avete bisogno scrivete direttamente Diego Adamo tanto lo trovate su Facebook oppure scrivete a me vi darò il suo indirizzo la sua mail o il suo contatto in generale e poi noi andiamo avanti con il nostro programma adesso per concludere il discorso dell'armonia voglio mettervi un video un brevissimo video da un minuto che ho preparato vediamo se parte c'è? sì sì ok che ve lo commento qui siamo in cinque metri d'acqua come potrete vedere io resto 20-30 centimetri sopra il fondale non sbatto non galleggio apparentemente sembra facile ma non lo è ho la luce alle spalle per cui guardate quanto è bello nitido l'orizzonte davanti a me se mi mettessi al contrario con la luce in faccia non vedrei niente questo è quello che invece vede il pesce guardate le pinne sono ferme durante la parte finale in pratica ve lo rimetto perché forse non si è visto per tempo guardate bene questo aspetto qui la parte finale il corpo è completamente fermo sta scivolando molto lentamente questo questa lentezza di approccio al fondale è quello che incuriosisce il pesce adesso il pesce si sta avvicinando come vedete si avvicina si avvicina io prendo posizione ma molto lentamente questo prendere posizione lentamente incuriosisce ancora di più il pesce questo è il migliore richiamo che c'è secondo me in assoluto adesso il pesce praticamente è arrivato a tiro ecco questo lo voglio farvelo vedere tante breve questo è il concetto di base come vedete molto lentamente forse vado più veloce del video adesso lo rivediamo molto lentamente l'approccio finale la prima parte della discesa può essere anche più veloce ma l'approccio finale deve essere molto lento e calibrato provateci e fate caso se vi viene bene oppure no potete capirlo proprio anche guardando i piccoli pesci che sono intorno a voi se schizzano via impauriti vuol dire che siete troppo veloci o che state sbagliando qualcosa se i piccoli pesci restano calmi vuol dire che state facendo tutto bene questo è l'approccio è l'armonia giusta nella pesca qualunque sia guata aspetto quello che volete voi ma anche in tana dobbiamo essere molto molto precisi e molto controllati bene questa era la parte che riguardava l'armonia adesso parliamo più che della tecnica in sé per sé parliamo delle scelte tecniche è inutile che vi dico l'aspetto si fa andando sul fondo ci si ferma si aspetta bla 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 è inutile cioè una cosa che sapete tutti voglio parlare in generale proprio delle scelte tecniche nel basso fondale diventa ancora più importante come si diceva perché il pesce è più diffidente è molto più difficile quindi la tecnica deve essere ancora più perfetta del solito in profondità come abbiamo detto l'errore ci viene perdonato ma nel basso fondo il pesce non ci perdona il minimo errore per cui dobbiamo essere sempre sempre molto concentrati e molto precisi il mimetismo è utile ma non risolve tutti i problemi perché il mimetismo quello ottico cioè la parte estetica del nostro corpo avete visto nel filmato io ero tutto mimetico c'aveva anche delle alghe di neoprene ci sono questi mimetismi estremi ai quali io do molta importanza però se non li abbiniamo a quelli che abbiamo visto lì quei movimenti quell'armonia quell'attenzione tecnica il mimetismo non serve a niente è inutile essere mimetici e poi ci muoviamo male facciamo un rumore siamo troppo aggressivi ci nascondiamo in un punto sbagliato quindi la parte tecnica diventa fondamentale proprio in questi complementari qui cioè come abbiamo visto l'equilibrio della zavorra la concentrazione il mimetismo la capacità visiva tutta una serie di piccole cose che sono quelle che poi fanno la grande differenza nella tecnica per cui detto questo ogni tecnica poi ha una sua scelta in base alle condizioni del mare che vedremo nel prossimo argomento in base alle condizioni che troviamo vi do solo dei piccoli spunti tanto per capire meglio per esempio il richiamo come dicevo ha un senso quando noi vediamo il pesce che non vuole venire allora lì può avere un senso ma se iniziamo a fare richiami da molto prima può darsi che addirittura da un lato facciamo bene la tecnica incuriosiamo il pesce per farlo avvicinare dall'altro facciamo un rumore se facciamo un richiamo per esempio tipo sbattere il fucile sulla roccia o un richiamo gutturale o sbattere i denti può essere che al tempo stesso da un lato lo incuriosiamo dall'altro lo impauriamo noi dobbiamo fare una cosa sola altrimenti il pesce si impaurisce quindi se scendiamo e ci muoviamo bene già stiamo effettuando un richiamo a quel punto non serve fare anche dei rumori ci appostiamo se il pesce non si avvicina allora lì diventa utile fare il richiamo il famoso richiamo aggiuntivo quello che fa avvicinare il pesce indeciso quando il pesce è indeciso allora si fa il richiamo farlo a priori mentre stiamo facendo bene la tecnica secondo il mio punto di vista è un errore non c'è niente di matematico non è che quello che dico io è sacrosanto io vi dico il mio punto di vista ognuno poi avrà le proprie idee non si può discutere i punti di vista degli altri però secondo me io mi sono reso conto che se facciamo due richiami diversi in contemporanea spesso impauriamo i pesci per cui nel mio caso io cerco di incuriosirlo prima con i miei movimenti calibrati attenti poi con un richiamo aggiuntivo nel caso non venisse questo per me è più importante poi un altro suggerimento secondo me molto utile nella tecnica ve l'ho accennato leggermente prima è quello di non portarsi dietro i dettami dell'apnea e vi spiego meglio se io pesco in basso fondale e sto pensando esclusivamente all'apneista bravo a quello che fa minuti di apnea stando fermo l'aspetto io sto facendo un errore perché quello che fa 3-4 minuti ora dico dei numeri casuali quello che fa 3-4 minuti di aspetto 5 metri d'acqua 3 minuti che sono già tanti ora non mi fraintendete ho detto dei numeri che mi sono venuti casualmente mettiamo quello che fa 2 minuti e mezzo che può succedere ci sono persone che fanno anche 2 minuti e mezzo 2 minuti e 40 a 6 metri 5 metri quelle persone lì in fondo alla giornata prendono meno pesce di quello che fa 1 minuto e 20 e lo sapete perché? perché quello che fa 1 minuto e mezzo 20 ottimizza e fa tanti tuffi in più ne fa il doppio il triplo per cui ogni tuffo crea un'opportunità quello che sta troppo tempo là perché vuole dimostrare di avere un'apnea eccezionale di solito prende meno pesce ecco quindi spiegato perché i dettami dell'apnea pura nel basso fondo proprio non servono come per esempio prepararsi per una buona apnea dovrebbe portare via almeno 7-8 minuti di tempo 10 minuti un buon apneista quando deve fare un'apnea impegnativa si prepara per 7-8-9-10 minuti nel basso fondo ci si prepara in un minuto non ci si può preparare in 10 minuti bisogna ottimizzare forse adesso si capisce meglio cosa significa ottimizzare quindi i dettami dell'apnea servono ma fino a un certo punto servono per prepararsi bene in un minuto uno che ha le capacità di prepararsi bene ovviamente in un minuto solo riesce a farlo chi non ha le capacità di prepararsi non ci riesce in un minuto non ci riesce in due non ci riesce in tre quindi impariamo a prepararci bene con i dettami dell'apnea ma poi nel basso fondo dimentichiamoci che dobbiamo fare dei record di apnea nel basso fondo le tecniche devono essere rapide ed efficaci scusate ho sbagliato rapide nel senso come tempo generale i movimenti devono essere lenti ma come tempo totale non deve essere lungo in pratica cosa consiglio mettiamo pesca l'aspetto scendo faccio 20 secondi di aspetto non arriva niente risalgo mi sposto di 20 metri scendo faccio 20 secondi di aspetto risalgo mi sposto fino a che non arriverà il pesce o fino a che non lo vedo indeciso e allora faccio il richiamo aggiuntivo se faccio così e riesco a farlo per 4 ore consecutive qualche pesce lo prendo per forza il problema delle 4 ore facendo in questo modo qui è che ci si annoia e allora cosa si perde? la concentrazione quello di cui si parlava all'inizio ecco che devo essere bravo a rendermi conto che ho perso la concentrazione la devo riattivare e continuare ma state tranquilli che anche se siete principianti e fate 4 ore di pesca in questo modo aspetto di 20 secondi salgo mi sposto aspetto di 20 secondi salgo mi sposto aspetto di 20 secondi e così via e così via state tranquilli che qualche pesce lo incontrate se iniziate a fare 10-20 minuti in questo modo concentrati e poi a un certo punto perdete la concentrazione iniziate a velocizzare a muovervi con troppa fretta con troppa ansia e anche con lo stress che non state prendendo niente non vedrete niente per ore e ore e ore fino a quando non vi accorgerete che state sbagliando tutto quindi va fatto così ma va fatto con la concentrazione giusta mi raccomando ecco perché lo ripeto sempre forse adesso è più chiaro il concetto di concentrazione questo è un altro argomento importante di tutte le tecniche qualunque tecnica ha bisogno di alta concentrazione tante volte si va a pensare a chissà quali segreti ma poi in realtà sono queste cose banali che sono quelle che fanno le più grandi differenze quindi per il basso fondo abbiamo detto alcuni consigli naturalmente cerchiamo di di essere rapidi come sempre perché chiaramente se approfondiamo tutto stiamo qui fino a domani adesso parliamo di quelle che possono essere le scelte cioè quando fare magari l'aspetto quando fare l'agguato in poche parole scusatemi un attimo adesso volevo lanciarvi un video ho bisogno degli occhiali per questo intanto intanto allora faccio la parola a qualcuno di voi intanto che carico questo video Mariano vai per quanto riguarda la determinazione nelle azioni di pesca serve soprattutto muoversi per mantenere la concentrazione la determinazione serve tanto negli spostamenti come accennavi anche tu prima osservare osservare davanti ma rilassarsi il più possibile in modo tale che poi nelle azioni di pesca di agguato di agguato e aspetto misti possiamo concentrarci al massimo è impossibile nel proseguo delle ore della pescata mantenere alta la concentrazione deve essere divisa e soprattutto concentrata nelle fasi che si sta a contatto col fondo bene adesso il video non so se si vede è partito? no io lo vedo ma pensavo che era andato scusate lo rimetto di nuovo allora intanto vi dico un'altra cosa molti per esempio principianti pensano che nella pesca in basso fondale bisogna arrivare a vedere il pesce e poi una volta visto il pesce si fa la tecnica questo nel basso fondale è sbagliatissimo perché nel basso fondale se arriviamo a vedere dalla superficie un pesce poi scendiamo e facciamo l'aspetto raramente non dico mai ma raramente lo prenderemo è partito? sì sì ok perfetto quindi non aspettiamo mai di vedere il pesce da sopra cerchiamo sempre di scendere un po' in diagonale per andare un po' più avanti del punto di dove scendiamo e non aspettiamo di vedere il pesce scendiamo anche se non stiamo vedendo niente perché il pesce magari è a 20-30 metri di distanza ci sente si avvicina infatti all'aspetto non passa per caso il pesce il pesce all'aspetto si avvicina perché ha sentito la nostra presenza e quindi viene incuriosito come abbiamo visto nel video precedente per cui è molto importante questo discorso che vi dicevo di scendere in diagonale tant'è vero che nel bassofondo non bisogna mai fare la capovolta da manuale quella con le gambe in alto parallele forte spinta la classica capovolta da apneista per avere la massima spinta nel bassofondo bisogna scivolare sul fondo essere più silenziosi possibile perché se non siamo silenziosi il pesce scappa via invece di avvicinarci di avvicinarsi per cui ricordatevi una discesa diagonale molto lenta come avete visto anche nel video precedente scegliamo come vedete in questa scena un fondale piuttosto frastagliato e poi mentre scendiamo decidiamo al volo se fare l'aspetto lagguato in questo caso visto la tipologia del fondale scorrere in mezzo a questi canaloni può essere più indicato per sorprendere qualche pesce quel pesce là non si è nemmeno accorto della mia presenza se vedete bene era tranquillo non è un sarago è un orata bastava un minimo di movimento in più o magari un minimo di rumore e già e già lo avremmo perso quel pesce non sarebbe schizzato via immediatamente ok questi sono gli aspetti più importanti per quanto riguarda le attrezzature io consiglio nel basso fondale un fucile leggero facile da brandeggiare perché spesso nel basso fondale c'è anche un po' di onda di risacca anche se il mare è apparentemente calmo un minimo di onda c'è sempre i fuciloni grossi potenti che vanno benissimo per la pesca all'aspetto profonda nel basso fondale non vanno assolutamente bene si brandeggiano male e se c'è un minimo di risacca ce lo muove continuamente per limitare il movimento del fucile sempre ammesso che si possa fare in base alla nostra posizione cerchiamo sempre di mantenere la risacca alle nostre spalle in modo che scorra dalla nostra schiena verso davanti a noi in linea con il fucile non so se riesco a spiegarmi se la risacca ci arriva lateralmente al fusto del fucile ce lo muove se la risacca ci arriva da dietro e va in avanti lo muove molto meno spesso per trovare il compromesso ci mettiamo un po' in diagonale e allora ci aiuta la diagonale ovviamente a limitare la risacca perché altrimenti se nel basso fondo all'aspetto la risacca ci muove il fucile diventa tutto più difficile le pinne come vedevamo prima nel discorso di Mariano non devono sbattere sul fondale sono preferibili in basso fondo pinne non troppo lunghe che sono perfette per la pesca profonda le pinne lunghe strette che vedrete spesso sono molto adatte per la pesca profonda ma sono assolutamente poco indicate per la pesca in basso fondale perché nel basso fondo serve controllo su spazi stretti per cui la pinna lunga sbatte sempre sulle rocce servono movimenti molto calibrati brevi per cui le pinne lunghe diventano più complicate serve nascondersi bene per cui la pinna lunga spesso si alza si muove e sbuca dal nostro nascondiglio e poi soprattutto si pinneggia tanto nel basso fondo ecco che la pinna lunga non parlo di lunga cioè pinna di 70 75 cm parlo di quelle pinne lunghissime ed approfonditi quelle non vanno assolutamente bene nel basso fondo sono più indicate pinne medio lunghe e soprattutto morbide perché ci consentono di fare lunghi spostamenti senza fatica pescare come diceva Mariano per ore e ore consecutive senza perdere l'energia e senza perdere anche la concentrazione e ci permettono di uscire meno affaticati per cui non c'è da fare grandi risalite o grandi sforzi la pinna morbida è sempre più indicata quindi non troppo lunga non troppo dura e soprattutto cerchiamo di non farla sbattere sul fondo quindi se è protetta da dei bordini laterali di gomma è anche meglio se siamo bravi con la tecnica possiamo anche evitarli ma se non siamo abbastanza bravi quei bordini laterali ci aiutano tantissimo per quanto riguarda tutto il resto delle attrezzature la muta abbiamo parlato del mimetismo l'abbiamo accennato la zavorra l'abbiamo detto un consiglio secondo me importante per pescare bene concentrati per parecchie ore bisogna stare al caldo per cui meglio due chili in più di zavorra con una muta un pochettino più pesante che stare troppo leggeri avere freddo iniziare a tremare ci viene noia ci viene ci subentra il freddo quindi abbiamo voglia di uscire perdiamo la concentrazione peschiamo male meglio stare al caldo magari con due chili di zavorra in più che stare un po' un po' tra il freddo e il giusto per quella fantasia di dire o meno zavorra riesco a risalire meglio tanto stiamo pescando in sei metri d'acqua otto metri risaliamo bene per cui è importante questo aspetto qui secondo me nelle attrezzature un suggerimento scusami se ti interrompo devo solo dire che mentre parlare esponevi tutte queste cose sei riuscito a rispondere a tantissime domande che sono arrivate fino adesso bene grazie perfetto qualcuna via via riesca a seguirla una particolare di un amico di un amico che conosciamo tutti al quale vogliamo tanto bene che è Claudio Marconcini ciao Claudio ciao Claudio vorrei fare una domanda tecnica anzi la posto visto che tanto si trattava di attrezzatura sì a Marco e Mariano sull'utilizzo del fucile nella pesca d'acquato aspetto in basso fondo con il mare mosso ci sono due correnti di pensiero la prima è di utilizzare un fucile neutro per risparmiare il polso nelle pescate lunghe la seconda è quella di utilizzare un fucile pesante in punta per privilegiare la stabilità della mira tra le onde voi che cosa consigliate? vai te Mariano? è lo stesso io preferisco sempre i fucili molto leggeri addirittura i miei fucili con l'asta preferisco che galleggino nelle azioni di pesca per quanto concerne le lunghe ore di pesca il fucile lo tengo sulla mano sinistra quindi sulla mano che non spara in modo da poter avere sempre il braccio e la sensibilità giusta per effettuare l'azione o il momento dello sparo con la massima precisione quindi preferisco non stancare il braccio che sparerà una volta che guadagno una volta sì una volta guadagnato sì una volta che fatta la capovolta guadagnato il fondo allora è solo in quel momento dell'azione subacqua che impugno il fucile il fatto di avere un fucile che mi permette di non stancare anche il braccio durante le azioni dinamiche o altro nel proseguo delle ore mi permette sempre di avere quella sensibilità di tiro che è necessario a non sbagliare i pesci perché nel basso fondo non si possono sbagliare dopo quattro ore di pesca si vede un pesce e quello va preso io sono della terza scuola di pensiera allora perché a me piace quello neutro né che galleggia né che va giù per i principi stessi che ha detto Mariano non mi deve stancare il polso devo brandeggiarlo bene sia in alto che in basso che in laterale e soprattutto perché se tende a galleggiare sono costretto parlo se tende a galleggiare molto sono costretto in qualche modo io tende a galleggiare immaginavo lo so io lo so bene infatti lo avrei detto immagino che nel discorso di Mariano leggermente galleggiante significa che non devi faticare per tenerlo in posizione ma che sia leggermente galleggiante o leggermente negativo te ti devi concentrare nel mantenerlo in posizione comunque hai già uno sforzo mentale e hai anche uno sforzo comunque sul polso minimo ma c'è per cui secondo me quello sforzo se riusciamo ad evitarlo a meno per quanto mi riguarda io poi sono un pignolo a me piace l'equilibrio su tutto quindi anche il fucile mi piace che sia perfetto tant'è vero che lavoro molto con i piombini in aggiunta o con dei galleggianti o con la lunghezza dell'asta fino a che il mio fucile non è perfettamente equilibrato non deve né galleggiare né andare verso il fondo quindi io sono della terza scuola di pensiero ma più o meno è la stessa cosa di Mariano più o meno è la stessa idea di Mariano insomma faccio una piccola correzione il fatto che il fucile quando io lo lascio rimanga leggermente a galla significa che magari già dai tre metri dai quattro metri acquista a quella neutralità che serve nelle azioni in più in profondità quindi su dieci metri che se abbiamo un'atmosfera eccetera il fucile praticamente non si sente neanche in mano anche se sono fucili lunghi o di azioni era giusto per precisare sentite scusate lo so io sono il classico porto le le domande all'improvviso anche se non fai bene ne fai bene senti c'è una domanda del nostro amico che parla di acque basse adesso la posto eh Francisco Loffredi che per chi non lo conoscesse ciao Francesco ciao Francesco voleva chiedere a Marco se esiste un futuro per i pescatori in acque basse nelle competizioni o la pesca agonistica secondo te sarà dominata dai pescatori profondisti qui usciamo un attimino fuori da da però ci tenevamo molto perché Francisco ci segue sempre e ci tenevamo molto rispondo velocemente con piacere poi torniamo sul tema grazie è difficile è difficile dare una risposta precisa però io sono dell'idea che siccome le competizioni a livello mondiale si svolgeranno su tutti i tipi di mare a volte profondi a volte non profondi l'abbiamo visto proprio due anni fa il mondiale di Sagres in Portogallo alla fine ha pescato bene chi ha pescato in acqua medio-bassa non hanno fatto bene i profondisti per cui secondo me il futuro c'è dipende dove si gareggia chiaro se si fa una gara in Grecia si pescherà profondo se si farà una gara che ne so in oceano in qualche posto dove c'è tanto basso fondale onda lunga eccetera probabilmente il futuro sarà più sul basso fondo infatti per completare questa risposta vorrei dire che secondo il mio punto di vista un pescatore in apnea bravo deve essere anche completo non è secondo me utile pescare solo in un modo bisogna cercare di essere preparati su tutto bene voglio concludere velocemente saluto di nuovo Francisco saluto tutti voglio concludere velocemente la parte delle tecniche dando un consiglio che esce dalla tecnica ma che secondo me è molto importante che tanti principianti sottovalutano ma anche qualche esperto quando si pesca in basso fondale la maggior parte delle persone con la falsa convinzione che meno si compensa meglio è si avvicinano al fondo magari compensano a due metri compensano le orecchie parlo i timpani compensano a due metri dal fondo e poi fanno gli ultimi due metri senza sentire dolore si appoggiano e fanno magari un lungo aspetto per tre quattro cinque ore a lungo andare il timpano comunque soffre per cui bisogna sempre compensare ogni volta che si tocca il fondo che sia peschentana che sia l'agguato che sia l'aspetto come si tocca il fondale bisogna compensare anche se abbiamo compensato uno o due metri prima perché in questo modo non rischiamo di infiammare il timpano molti che ci ascoltano sono sicuro che hanno avuto infiammazioni timpaniche quando fa male qua sotto il lobo dell'orecchio che tanti chiamano otite in realtà non è otite è infiammazione della membrana del timpano e spesso nove volte tu dieci accade per questo motivo qui perché non si compensa quando siamo a contatto con il fondo non è un discorso tecnico ma è una cosa secondo me molto utile perché poi se compensiamo siamo anche più tranquilli se facciamo il tuffo che sentiamo che forse era meglio compensare forse sì forse no ci viene l'ansia peschiamo male quando arriviamo sul fondo compensiamo sempre e leviamo il vino dai fiaschi non rischiamo niente a livello infiammazioni siamo più sereni nella tecnica allora l'argomento questo è finito c'è rimasto l'ultimo che è quello che riguarda le strategie e le tattiche poi eventualmente rispondiamo anche ad altre domande siccome è l'argomento penso più interessante quello dove ci sono state fatte più domande io passerei subito a questo perché siamo già online da un bel po' di tempo se no non riusciamo a svilupparlo poi se avete piacere noi restiamo non è che ce ne andiamo vedo che siete sempre numerosi quindi portiamo avanti questo argomento e poi rispondiamo anche a varie domande poi ci saranno altre dirette naturalmente allora che cos'è la capacità strategica la capacità strategica è quella capacità di ogni pescatore in apnea di essere nel posto giusto al momento giusto cosa non semplice assolutamente ed è qualcosa che si può fare sia prima che durante ovvero si può pianificare la nostra strategia a casa il giorno prima di andare in mare come si può anche pianificare durante la battuta di pesca perché tutti spesso andiamo a pescare quando siamo liberi quando abbiamo la giornata libera e non sempre possiamo programmarci qualcuno ha la fortuna anche di programmarsi il giorno e l'orario ma siccome il 90% delle persone vanno a pescare quando sono libere e magari non hanno nemmeno questa possibilità di sapere com'è il mare com'è la visibilità e così via e così via chiaramente ci sono tutte e due le possibilità chi può farà la strategia a priori fin da casa e chi non può deve cercare di farla mentre pesca anche perché a volte andiamo in mare e troviamo condizioni diverse da quello che abbiamo immaginato come giustamente è stato detto prima da Mariano ecco quindi che dobbiamo suddividere la strategia in queste due fasi prima e durante il prima è tutto quello che concerne le previsioni del tempo l'immaginarsi che tipo di mare troveremo che visibilità troveremo che correnti ci saranno e così via durante significa fare una valutazione sul posto mentre peschiamo e cambiare piano piano la strategia in modo che cerchiamo di ottimizzarla al massimo anche perché nel basso fondale il pesce non è più stanziale come lo era 30-40 anni fa nel basso fondale oramai il pesce soprattutto da noi in Italia entra ed esce va e viene c'ha i suoi momenti in cui deve per forza entrare per mangiare ma la maggior parte del tempo preferisce starsene fuori dove non è disturbato quindi in queste situazioni naturalmente noi dobbiamo cercare di capire quando è che entra questo pesce non sempre è facile capirlo adesso vi darò 10-15 dritte che possono essere utili ma non definitive poi il resto lo dobbiamo sviluppare mentre peschiamo e chiaramente è la parte più difficile e anche più affascinante forse della nostra disciplina quindi andiamo a vedere cosa possono essere queste parti che incidono allora prima di tutto dobbiamo cercare di ricordarci sempre che il famoso discorso alba e tramonto è sì validissimo ma non sempre è la scelta perfetta perché come vedremo tra poco ci sono delle situazioni in cui non è detto che sia il momento migliore in linea di massima l'alba e il tramonto sono gli orari migliori ma non sempre quindi questo lo chiariamo come proprio precisazione dobbiamo cercare pensando a priori se possiamo programmare la nostra battuta di pesca in basso fondale per esempio all'aspetto che la prima mossa di mare dopo qualche giorno di mare calmo in genere è un momento ottimale per cui ha fatto tre, quattro, cinque giorni in mare calmo sta entrando un po' di vento che muove il mare dobbiamo cercare di essere in acqua nel momento in cui il mare sta iniziando a muoversi non troppo prima non troppo dopo perché rischiamo di trovare l'acqua torbida il pesce è già entrato magari tende già ad uscire dobbiamo prendere quell'attimo in cui entra e quell'attimo lì magari in un'ora ci divertiamo e se arriviamo un'ora troppo tardi ne vediamo tanto meno di pesce se arriviamo troppo presto ci sta che facciamo un'ora due senza vedere niente poi all'improvviso c'è il mondo purtroppo nel basso fondale è sempre più spesso così dobbiamo cercare di capire quando è quel momento quindi abbiamo detto la prima mossa di mare dopo molto tempo che è rimasto fermo e ci aiuta e chiaramente dobbiamo stare attenti faccio un esempio se il mare è stato calmo vediamo che il vento entra e il mare entra probabilmente l'onda cresce alle 10 di mattina dobbiamo cercare di essere in acqua un'ora due prima che salga l'onda in modo che ci permette di uscire in sicurezza e al tempo stesso di essere in acqua quando sta cominciando a muoversi il mare è quello il momento migliore quando il mare comincia proprio a muoversi quindi cerchiamo di essere in acqua un po' prima che ne so faccio l'esempio alle 7 di mattina alle 11 dobbiamo uscire cerchiamo di essere in acqua alle 7 di mattina magari faremo un'ora due che ancora non c'è un granché poi becchiamo l'ora migliore e dopo di che poi usciamo e questa è una prima indicazione tra le tante che vi darò poi dobbiamo cercare di capire le correnti predominanti per esempio se io vado in un posto X e a destra di questo posto c'è un fiume che butta acqua torbida e dolce e la corrente arriva dal fiume verso di me normalmente che succede? al contrario di quello che tutti pensano che nell'acqua dolce i pesci ci stanno non è assolutamente così nell'acqua dolce i pesci ci stanno quando ci si abituano e ci vivono continuamente allora gli piace perché lì non sono disturbati ma se un pesce è abituato alla salinità del mare con una salinità faccio un esempio 30 e all'improvviso arriva una corrente di acqua dolce la salinità da 30 scende a 20 quel pesce lì non ci sta volentieri se ne va quindi noi dobbiamo stare attenti a non incontrare delle correnti che arrivano dai fiumi che portano l'acqua più torbida e più dolciastra quando troverete l'acqua più dolciastra lo sentite anche sulle labbra e vi accorgerete che di pesci belli se ne vede pochissimi ma si vede tanti sparaglioni saraghi piccoli occhiate queste cose qua ma pesce bello è sempre più raro questa è un'altra indicazione utile da prendere in considerazione ripeto perché spesso si rischia di essere frantesi se è una laguna se è uno sbocco di un fiume se è un posto vicino ad acque dolci dove il pesce ci è abituato allora ce lo troviamo non dico un porto perché è vietato ma dentro un porto i pesci lo sapete ci stanno alla grande eppure l'acqua è meno salmata ma lì sono più tranquilli e quindi il principio deve essere quello se peschiamo in un posto con l'acqua che è sempre di un certo livello dobbiamo cercare di andarci quando l'acqua mantiene quel livello lì quindi più è pulita più è salina meglio è in linea di massima in generale sto parlando di scogliere di posti tradizionali ovviamente se poi si va ci sono dei golfi come per esempio il golfo di La Spezia dove sicuramente c'è una salinità diversa una visibilità diversa tutto questo che vi sto dicendo probabilmente là dentro serve meno il golfo di Olbia e così via dove sta Mariano però in linea di massima la maggior parte di posti subiscono queste caratteristiche quando l'acqua è torbida in genere bisogna pescare all'aspetto perché quando l'acqua è torbida il pesce è più nervoso quando l'acqua è torbida il pesce mette al massimo la sua allerta del pericolo per cui sta molto più attento ed è molto più pronto alla fuga è un po' come se noi di notte nel bosco sentiamo un rumore non vediamo che cos'è la nostra paura sale se siamo di giorno e c'è una buona visibilità sentiamo un rumore non ci impauriamo allo stesso modo quando l'acqua è torbida il pesce succede la stessa cosa basta un niente e schizza via per cui con l'acqua torbida bisogna fare l'aspetto non l'agguato e cercare di guardare sempre dritto davanti al fucile queste sono indicazioni di massima poi è chiaro che tutto è discutibile e tutto può essere modificabile in base a mille altri fattori queste sono indicazioni semplici e generiche che 9 volte su 10 trovano un buon riscontro con l'acqua limpida invece è meglio l'agguato proprio per i motivi opposti perché noi da lontano riusciamo a vedere il pesce da lontano possiamo scegliere il nostro percorso per avvicinarlo per sorprenderlo e al tempo stesso con l'acqua limpida il pesce è molto più tranquillo perché appunto è limpida per cui acqua torbida in genere si fa all'aspetto acqua limpida è più redditizio fare l'agguato sono piccolissime indicazioni in linea di massima quando ci accorgiamo per esempio che il pesce è in movimento e ci sono delle giornate che lo vediamo perché basta guardare anche i pesci che non ci interessano come le occhiate le salpe i tordi e così via quando vediamo un buon movimento di salpe di medio medio grandi quindi di grandezza decente non quelle piccoline occhiate discrete tordi discreti cioè sicuramente c'è un certo movimento saraghi di un certo livello anche se poi non si fanno pescare però significa che il pesce è in movimento quando c'è il movimento si fa l'aspetto quando non c'è movimento di pesce allora in quel caso è meglio l'agguato perché esploriamo una zona molto più ampia di mare per cui abbiamo più chance di incontrare appunto la preda quando non vediamo proprio un pesce né all'aspetto né all'agguato a volte perché quei pochi pesci che ci sono magari sono in tana ecco che in quel caso allora si passa a un tipo di pesca completamente diversa ma in basso fondo la pesca in tana raramente dà delle soddisfazioni è abbastanza raro teniamo sempre la luce alle spalle perché in linea di massima la luce alle spalle è sempre un vantaggio e cerchiamo anche nei limiti del possibile di tenere la corrente alle spalle non sempre è possibile però possiamo fare dei piccoli aggiustamenti quindi in linea di massima quando ci riusciamo cerchiamo di portare sempre la luce alle spalle e la corrente alle spalle perché la luce alle spalle come avete visto prima ci dà un orizzonte davanti migliore e il pesce che guarda verso la luce ci vede male in più la corrente alle spalle porta la propagazione delle nostre onde sonore che emettiamo nell'acqua verso il pesce e lo incuriosisce di più con la corrente contro incuriosiamo solo i pesci vicini che riescono a percepire questa nostra presenza ma quelli lontani non riusciranno a percepirla per cui è un doppio vantaggio quando non è possibile si deve scegliere tra sole e corrente nel mio caso io preferisco il sole a meno che non peschiamo in acqua particolarmente torbida e dobbiamo pescare in parete contro luce allora dal basso verso l'alto il contro luce ci può dare un piccolo vantaggio perché vediamo meglio le ombre ma in linea di massima durante la pesca normale di solito è sempre molto meglio averla alle spalle la luce ovviamente noi si può adattare la nostra posizione e qui voglio rispondere alla domanda di una persona che ci segue Matteo Veroli mi scuso se sbaglio gli accenti ma purtroppo non si può mai sapere che domanda io quando vado in acqua di solito la mattina entro faccio l'aspetto guardando verso il largo e c'è il sole in faccia cosa posso fare ecco Matteo in quel caso lì possiamo trovare appunto l'aggiustamento per cui ci si mette paralleli alla costa avremo il sole di lato non lo avremo più di fronte e con il sole di lato magari cerchiamo di guardare leggermente in diagonale verso la costa non totalmente verso la costa ma leggermente in diagonale per cui scorriamo paralleli alla costa leggermente in diagonale con lo sguardo verso la costa è quasi come avere il sole alle spalle dalla parte della corrente che ci spinge la corrente tanto di solito è sempre parallela alla costa per cui scegliamo il lato della corrente che ci spinge con il sole non perfettamente alle spalle ma in diagonale a noi è già un buon accorgimento per trovare una soluzione e quindi questo si fa in linea di massa si fa quasi sempre per quanto riguarda la marea ti dico velocemente perché è un argomento complesso che avrebbe bisogno di un sacco di tempo marea e luna in linea di massima quando c'è bassa marea vedremo pesci più piccoli e di solito è più indicata la pesca intana gira poco il pesce con la bassa marea quando vediamo l'alta marea in linea di massima i pesci predatori si concentrano dove c'è più mangianza con l'alta marea la mangianza sia in acqua bassa che in acqua diciamo media la mangianza si concentra la troveremo quindi branchi di piccoli pesci proprio in acqua bassa bassa e branchetti di piccoli pesci o di mangianza acciughe in acqua magari un po' più profonda anche 10-12 metri quindi a seconda di quello che è la nostra profondità di pesca se saranno 4 metri peschiamo più guardando sotto costa dove si concentrano questi branchi di mangianza se peschiamo a 10-12 metri è più facile troveremo qualche predatore come barracuda dentici e così via là dove si concentra appunto la mangianza il momento migliore per quasi tutti i tipi di pesci è nel momento in cui dalla bassa marea si passa verso l'alta marea a metà è il momento in cui si muove di più l'acqua è il momento in cui si muove di più la marea è il momento in cui si muove di più il pesce quindi se ci riusciamo possiamo cercare di essere nel posto che ci piace di più nel momento in cui la marea va salendo queste sono indicazioni ripeto di massima perché poi se troviamo la marea perfetta ma poi c'è stata la luna sbagliata o la corrente sbagliata va tutto a farsi friggere in pratica quindi teniamo conto di tutte queste indicazioni ma poi le dobbiamo mettere bene insieme come un puzzle guardiamo anche la luna velocemente allora la luna in linea di massima quando è nuova che sembra piena ma in realtà è nuova quindi fa meno luce è un momento mediocre per la pesca ora vi spiego il perché quando invece la luna è piena che è il momento che illumina di più che succede? succede che durante la notte c'è sufficiente luce per il pesce per cibarsi per spostarsi e quindi alla mattina presto ecco il famoso discorso dell'alba che non sempre è ottima la mattina presto andiamo in mare troviamo il pesce che ha già mangiato ha già svolto la sua attività e quindi la mattina presto quando c'è luna piena non vedremo mai il pesce che vedremo quando non c'è luna piena perché quando non c'è luna piena durante la notte sta fermo il pesce la mattina appena arriva la luce si scatta la sua frenesia alimentare per cui si avvicina alla costa per mangiare ed è molto più presente ecco spiegato perché quando c'è luna piena non è che l'alba diventi poi questo momento eccezionale è molto meglio il tramonto quando c'è luna piena perché il pesce si prepara a mangiare e muoversi anche durante la notte quindi si avvicina perché è tutto più tranquillo per cui in breve direi luna piena meglio il tramonto primo quarto di luna o mezzaluna meglio la mattina presto l'alba primo quarto di luna viene considerato per varie ragioni che ora non sto a spiegarvi il momento migliore quindi il primo quarto di luna crescente è considerato anche da pescatori professionisti da sempre il momento migliore per cui se riusciamo a pianificare la nostra battuta col primo quarto di luna con la marea ideale con la luce alle spalle con la corrente a favore con tutte queste indicazioni e vi sto dicendo nel posto che ci piace di più ecco che riusciamo a essere nel posto giusto nel momento giusto però è molto lungo questo argomento quindi devo per forza velocizzare dobbiamo tenere presente che la luce alta può essere un alleato quando peschiamo in 10-12 metri perché ci copre la nostra discesa verso il fondale può essere uno svantaggio quando peschiamo in acqua molto bassa perché ci mette molto in mostra nei confronti del pesce quindi in acqua bassa per scandalo aspetto all'agguato sarebbe meglio la luce bassa quindi mattina presto o tramonto o momenti di giornate nuvolose per esempio un altro aspetto che io se posso prendo molto in considerazione tra andare per esempio domani che c'è un bel sole faccio un'ipotesi e non lo so se ci sarà il sole e andare dopo domani che è nuvoloso a parità di condizioni di orari di posto preferisco sempre il giorno nuvoloso in basso fondo parlo perché comunque è un po' come essere in acqua la mattina presto o la sera al tramonto sono piccole cose ma poi alla fine tutte insieme possono fare delle belle differenze scusate a questo punto voglio rispondere anche alla domanda di Mario per la cani che salutiamo e lui ci chiede ma perché in basso fondale spesso io mentre scendo vedo i pesci a mezz'acqua schizzano via e non riesco mai più a prenderli mi fanno imbestialire e quando pesco un po' più profondo spesso e volentieri questi pesci non scappano e magari riesco a prenderli la certezza Mario non ce l'ho però è probabile che in questi casi nella discesa nel basso fondo ci sta e ti dico delle ipotesi potrebbe essere che sei troppo rumoroso mentre quando scendi più a fondo riesci a controllare meglio la tua discesa può essere una ipotesi molto plausibile che c'è il termoclino quindi l'acqua fredda quel taglio di acqua più gelida per cui i pesci stanno sopra sempre al termoclino e quando ti arrivi sul fondo praticamente loro sono costretti a toccare l'acqua fredda e scappano queste sono le ipotesi che mi vengono in mente poi potrebbero essercene anche altre ma le vedo meno possibili secondo me è molto probabile che sia una di queste due intanto prova queste poi magari mi fai sapere e valutiamo eventualmente anche altre ci scriviamo privatamente come hai già fatto valutiamo altre situazioni il termoclino visto che abbiamo toccato l'argomento purtroppo è quell'acqua fredda che tutti incontriamo quando peschiamo anche in basso fondo soprattutto in questo periodo maggio giugno luglio spesso c'è acqua fredda anche in 5-6 metri di profondità e quando l'acqua è fredda di solito il pesce non ci sta volentieri nell'acqua fredda ci stanno solo i pesci stanziali che nel basso fondo oramai sono rarissimi per cui questo fatto del pesce che entra e esce quando entra vuole stare nell'acqua calda ecco che se il termoclino è a 5 metri il pesce lo troviamo in 3 metri 2 metri per cui dobbiamo fare attenzione e cercare di ragionare bene su questo aspetto perché se peschiamo all'agguato dobbiamo cercare di rimanere in acqua bassa dove c'è l'acqua calda non andiamo a farlo dove c'è l'acqua gelida perché il pesce lo troveremo tutto sopra al taglio gelido precisamente sopra un metro un metro e mezzo sopra l'acqua fredda quindi la nostra profondità ideale sarà se il termoclino è a 6 metri facciamo l'agguata a 4 se il termoclino a 8 facciamo l'agguata a 6 questa è un'indicazione importante che tanti non prendono in considerazione se nel posto dove vanno a pescare la zona più bella che gli piace di più è a 8 metri ma c'è il termoclino le persone pescano a 8 metri è sbagliato in quel caso stiamo un po' più su anche se il fondale ci piace di meno anche se siamo sicuri che là sotto ci poteva essere qualche pesce in più ma se troveremo qualcosa lo troviamo sopra il termoclino non sotto questa è un'altra indicazione importantissima per cui concludendo un po' tutto questo nostro argomento l'ultima cosa che vi dico poi lascio la parola ai miei amici e vi facciamo vedere un filmato non è tutto così scontato perché la regola unica è sempre sicura che abbiamo nella pesca in apnea è che in mare non c'è niente di certo queste sono tutte indicazioni in linea di massima utili che spesso ci portano un risultato però la certezza matematica non c'è mai perché io sono qui a dirvi tutte queste cose però ogni tanto pure io incappo nella giornata storta non è che io con tutte queste robe qua che posso anche approfondire vado matematicamente sul sicuro mi capita anche a me di sbagliare di non prendere un pesce di fare degli errori di non trovare le condizioni come avevo immaginato spesso riesco a risolverle sì magari la mia capacità sarà di risolverle otto volte su dieci ok però ci sono anche quell'una o due volte che non ci riesco proprio perché non c'è mai niente di certo non vi scoraggiate se siete principianti provate tentate tutto quello che vi ho detto cercate con pazienza di mettere tutto in pratica e poi un po' alla volta vedrete che si riesce a trovare la strada giusta e i risultati arrivano non vi preoccupate per cui a questo punto chieda a Diego cosa pensa di tutto questo e se c'è qualcosa in particolare da raccontarci in merito a queste caratteristiche delle condizioni guarda Marco a proposito proprio di strategia di tutte queste cose che hai detto tu mi ricordi e voglio condividere con tutti loro che ci vedono ci stanno guardando la cattura più bella finora che io abbia mai effettuato in una situazione in una giornata particolare nel frattempo che metto il video racconto praticamente io era metà ottobre dell'anno scorso ero entrato in acqua verso le dieci e mezzo del mattino facendo vari tuffi insomma vedendo poco pesce pesce piccolo insomma nulla di entusiasmante e era una giornata di scirocco montante quindi il mare stava stava cambiando in maniera vistosa e l'acqua non era non era neanche pulita era già torbida abbastanza torbida la mattina ho pescato intorno ai 15 metri di profondità ricordo tra i 12 15 16 così quindi molti tuffi a queste quote però nel pomeriggio qualcosa mi ha mi ha portato mi ha detto che dovevo avvicinarmi nel sottocosta perché avevo notato insomma della della mangianza e quindi in 8 metri d'acqua succede questo che ora vi mostro praticamente effetto mi metto con spalle alla corrente di scirocco effetto una capovolta molto delicata rilassata ero abbastanza disteso e rilassato in una zona che non conoscevo non c'ero mai stato a pesca quindi per il proprio estraneo vedo questa poseidonia e decido di di appostarmi lentamente e fare un richiamo gutturale proprio appena mi apposto resto completamente immobile e dopo pochi secondi mi appaiono dalla mia destra dal video non si vede bene ma erano tre lecce intorno ai 20 chili molto probabilmente stavano a caccia erano disposte più o meno in fila indiana e fanno compiono un semicerchio davanti a me quindi come se facessero una una mezzaluna come se mi volessero studiare poi vabbè qui mi si scarica la telecamera perché era dalla mattina che stavo riprendendo ma praticamente erano circa le 4 di pomeriggio quindi è successo che io per tutta la mattina non ho visto nulla comunque ho visto poco ricordo ho preso due dentici ma insomma non enormi e poi il pomeriggio questa sorpresa fatta come dicevi tu prima in diciamo relativamente basso fondale per me 8 metri ma il termoclino stava a circa 12 metri di profondità mi ricordo c'era un taglio freddo a quella quota lì quindi decido di appostarmi più nel sottocosta e effettuare un tuffo rilassato con una caduta leggera leggera per appostarmi e stare completamente immobile e sono riuscito così a a fare questa meravigliosa cattura e poi dal video non si vede ma sarebbe questa qua ecco 17 chili di pesce non so se lo vedete no è andato via il video no il video ah la foto ah bene bene eccola qua ok questa qua hai goduto eh eh ho goduto tantissimo soprattutto per lo srotolamento del mulinello perché mi ha mi ha srotolato circa 60 metri in pochi secondi che mi ha fatto fare un po' di scinaudico quindi una bellissima esperienza bene come vedete tutti 8 metri d'acqua quanto hai fatto di apnea avrò fatto penso neanche un minuto vedete un minuto di apnea 8 metri d'acqua pesce di 17 18 chili tutto è possibile anche nel basso fondo non è che bisogna andare per forza 50 metri per prendere un bel pesce sì Mariano sì eccomi fai vedere un video o ci dici qualcosa allora può mostrare Gerardo qualche fotografia anche di qualche cattura che si può fare nel basso fondo perché molti appassionati sono convinti che certi pesci si debbano prendere solo negli abissi quindi andiamo a sfattare anche questa convinzione che molto spesso può essere errada nel basso fondo a me capita sovente di catturare anche dei grossissimi dentici o di far carniere in questo caso lo abbiamo fatto noi due divertendoci a costa paradiso sì mi ricordo abbiamo alternato bella pescata sì scorravamo lo stesso tratto di costa uno affiancato all'altro a momenti pescando con un solo fucile c'è da divertirsi quindi i pesci possono essere presi anche senza accanimento in amicizia e in divertimento giro giro sì fai vedere magari un grosso dentice anche l'altro che vi ho visto di fronte in questo caso questo dentice che vedete è una femmina ferma sul fondo adagiata sul fondo dove muore la posedonia sono dei dentici di basso fondale dei dentici solitari che raggiungono soprattutto il basso fondo nel mese di novembre in quel caso è bastato avvistata dall'alto in 6-7 metri d'acqua è bastato fare un agguatto sulle alghe sulla posedonia rallentata che ha permesso di effettuare il tiro poco prima che partisse il tiro è stato perfetto da dietro quindi un'ottima cattura in questo caso vedete una leccia sparata dalla superficie quindi neanche sì le lecce a me capita sovente di prenderne tante perché qui da noi ad Olbia nella golfatta ci sono i periodi in cui entrano ne prendo diverse senza proprio zero immersione dalla superficie bene vediamo che non è mai successo a me sì io ne prendo tante io alterno alterno anche delle giornate di pesca perché andando in mare quasi tutti i giorni sui pesci amo anche andare in acqua a divertirmi e ho un grande rispetto proprio verso il mare faccio un prelievo selettivo mirato non vado mai a distruggere una tana ma faccio un ottane neanche che da più di 20 anni mi danno dei pesci mi limita a spararmi uno massimo due se capita la coppiola possibilmente furitana qui vedete una rarità una grossissima spigola presa in una giornata particolare la racconto brevemente perché penso che spigoli così se ne vedano pochi è capitato di fare tantissimi chilometri da casa qui nella mia isola e di trovare il torbido assoluto quindi non vedevo neanche le mani nell'acqua però so che quando c'è il torbido assoluto si formano delle chiazze di acqua pulita le chiazze di acqua pulita si formano dove c'è differenza termica nello scorrere tante ore d'acqua ho trovato tre chiazze pulite e nella mia pescata che è risultata poi lunga sei ore non facevo altro che spostarmi a fare degli aspetti da una chiazza d'acqua chiara ad un'altra in un raggio magari di mezzo chilometro come se fosse un cannista un pescatore che lancia la canna e aspetta che arrivi la sua preda dopo diverse ore questa strategia in queste tre chiazze pulite mi ha premiato appunto con questa cattura che è stata fatta in quattro metri d'acqua e sparata dalla superficie cavoli qui vedete una ricciola ricciole arrivano nei mesi di novembre normalmente queste ricciole grosse qui sono solitarie ragazzi tutti a pesca da Mariano tutti in Sardegna ma c'è sta più il pesce oramai si è preso tutto lui l'ha finito vi racconto l'ultima cosa una cosa buffa nell'isolotto di Figarolo che si trova qui a 15 minuti da casa una volta catturai una grossa ricciola in Tana questa storia delle ricciole in Tana è diventata una barzelletta tanto è vero che una volta Marco venne qui ad Olbia e andiamo in una zona dove appunto le ricciole si intanavano erano ricciolotte quel giorno e vederne tante dentro le lastre dentro le temono i delfini e si nascondono solo per quello no forse sapevano che arrivavi te allora no sei arrivato tu e ne hai portato via un po' la ricordo quella storia vai abbiamo vissute tante di belle avventure ce ne sarebbe da raccontare ma sentiamo Gerry che c'hai da dirci Gerry facciamo vedere un video scusami metto un video tuo video mio che c'hai girato certo certo io sono un pesca sub vintage raramente faccio video raramente faccio fotografo catture perché mi godo molto il momento in cui scendo in acqua ritengo molto molto per me sono felice di condividere con alcuni amici le mie catture che a volte capitano a volte invece come ho detto prima capitano i cappotti ma questo non mi ha mai fermato non ha mai fermato la mia passione di entrare in acqua ho sempre pescato con altre tecniche durante tutto l'arco della mia vita ma quando ho messo la maschera qualcosa in me è cambiato veramente faccio parte di quel tipo di pescatore che quando esce da casa non è non è importante pescare lo so che per alcuni è una bestemmia quella che sto dicendo ma da quando ho messo la maschera entro in acqua se torno a casa con il pesce sono felice se torno senza sono felice lo stesso perché ho vissuto un'avventura fantastica lo so lo so perché l'acomista può sembrare una cosa strana molto strana ma è veramente cambiato qualcosa a me hai goduto qua eh eh guarda sto godendo ancora adesso è come se fosse sempre la prima volta guarda no a parte gli scherzi ragazzi io se posso fare una piccola parentesi su sulle sulle tecniche come imparare le tecniche molti di noi hanno iniziato con il tuo libro ma adesso non sto facendo la tua pubblicità ma veramente tanti ho letto anche molti grazie che lo dicono ma una cosa in particolare per imparare se posso dare un piccolo consiglio a chi ci sta seguendo per questo capire capire come sbagliare imparare a sbagliare sbagliare la tecnica sapere di sbagliarla porta molto probabilmente a non fare più quell'errore io scendo su uno scoglio e sbatto di proposito i piombi e vedo dei piccoli sparaioni dei piccoli saraghi che scappano ma è perso ma è possibile che un rumore così piccolo va fatti scappare magari faccio un'altra volta scendo tranquillo mataggio senza fare rumore senza fare niente riesco a guardarli i pesci che non scappano sbagliando si impara è banale la cosa ma è vera eh sì questo è un argomento che sarebbe sicuramente anche lungo da affrontare però chiaramente per concluderlo bisogna che l'errore diventi una ricchezza non una bestemmia portarsi dietro portarsi dietro la rabbia per un errore è la cosa più sbagliata che c'è l'errore ci deve insegnare a migliorarci e non si finisce mai di imparare vi posso garantire che dopo sì ma sono sicuro e Mariano dirà la stessa cosa cioè dopo una vita che peschiamo ancora impariamo non finiamo mai di imparare anche perché poi le cose cambiano quello che era valido trent'anni fa o anche dieci anni fa non è più valido oggi per cui bisogna sempre sempre aggiornarsi e sbagliare per imparare bene siamo arrivati in conclusione abbiamo passato due ore insieme siete sempre stati numerosi ci fa molto piacere vi ringraziamo tanto non so se vogliamo rispondere ancora a qualche domanda Gerry come? leggete il banner tra poco diremo a quando la prossima diretta ah sì 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 eccolo è arrivato stavo dicendolo adesso vi diamo appuntamento alla prossima diretta che sarà su questo stile qui ma tratterà altri tipi di argomenti e sarà martedì prossimo stesso orario alle diciotto siamo sempre noi quattro manteniamo questo format e questa metodologia facciamo una presentazione in stile didattico come abbiamo fatto stasera con i commenti dei vari personaggi come avete visto probabilmente nella presentazione ognuno di noi rappresenta una categoria diversa quindi avete sentito punti di vista differenti e cercheremo la prossima sera di affrontare altre argomentazioni che in parte vi anticipiamo il grosso delle argomentazioni tratteranno cosa c'è da fare per prepararci incrociamo le dita speriamo che non ci siano cambiamenti per prepararci a tra pochi giorni quando riusciremo a tornare in acqua non sarà solo una questione di allenamento come tutti immaginano ci saranno molte altre cose da andare a vedere perché spesso poi le sottovalutiamo vi faccio solo un esempio semplice semplice magari uno non pensa che c'è il fucile la fermo da tre mesi e che la sagola del mulinello si è incrostata di sale per cui svolgere la sagola del mulinello e riavvolgerla potrebbe significare che quando vado la prima volta a pesca e prendo la leccia di 17 chili come Diego magari quella sagola invece di imparruccarsi o di bloccarsi funzionerà benissimo ma quanti ci penseranno a questo discorso faccio un esempio della sagola oppure quanti saranno pronti con le attrezzature o saranno pronti psicologicamente per affrontare dopo mesi di fermo o mesi di inattività perché magari qualcuno di voi è fermo anche dall'estate scorsa per cui andremo ad analizzare a 360 gradi tutte queste varie situazioni che ci interessano per riprendere l'attività e risponderemo a qualche domanda in più di quanto non abbiamo fatto stasera perché spero che avremo anche un po' più di tempo quindi fateci tranquillamente le vostre domande da qui a martedì per quanto riguarda il riprendere l'attività augurandoci di fare poche dirette prossimamente perché siamo tutti a pesca augurandoci che da ora in poi vedremo più video di pesca e un po' meno dirette a noi ci fa piacere ma chiaramente se torniamo tutti a pesca saremo anche meno incollati come immagino davanti allo schermo e quindi analizzeremo ripeto martedì prossimo a 360 gradi cosa c'è da fare per prepararci anche a livello proprio di rituale generale di pesca che vale sempre non vale solo per quando torneremo in questo periodo ma vale sempre per ogni situazione per ogni volta che andiamo a pesca in più risponderemo alle domande più frequenti che ci fate quindi spazio alle vostre richieste scrivetemi privatamente oppure scrivete sui nostri post o direttamente su questa diretta noi tanto leggiamo tutto ci annotiamo tutto e vi risponderemo hanno seguito e che ci stanno ancora seguendo di mandare di commentare la diretta sulla pagina di Marco Bardi da dove nasce il live non sulle condivisioni perché altrimenti noi non li vediamo esatto giustamente o scrivete in privato ricordatevi che in questo gruppo che vedete qua davanti noi rappresentiamo anche due gruppi facebook come vedete nei loghi uno è il gruppo cento per cento e uno è il gruppo la magia della pesca in apnea siamo amici condividiamo tutto anche non siamo concorrenziali anche su facebook siamo qui tutti insieme apposta per cui ci trovate anche all'interno di quei gruppi là se non riuscite in qualche modo a mettervi in contatto con noi potete sfruttare anche questi due gruppi facebook che sono particolarmente attivi dove tanti di voi sono comunque iscritti quindi concludendo vi ringraziamo ancora una volta per la vostra partecipazione io vi lascio i miei saluti e passo la parola per i saluti a tutti i miei amici vai Cervi grazie grazie a tutti veramente di cuore siete stati tantissimi veramente non ho fatto il tempo a leggere tutti i commenti perché sono stati veramente tanti vabbè ma stavamo sulla pagina di Marco Bardi e poi stasera ci avevamo un cavallo di battaglia fantastico un grandissimo pescatore e un grandissimo uomo Mariano Satta che per me è stato un onore veramente averlo vicino a me grazie Mariano grazie Diego grazie Marco grazie a tutti oh Mariano ho visto che tanti ti hanno scritto non sì soprattutto sì 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 perché nella SD dove io mi alleno come apnea mi chiamano nonno perché sono nonno veramente grande Mariano sì adesso sono due mesi che non vedo il piccolino e speriamo ci sblocchino in modo da poterlo riabbracciare la prossima volta ci fai vedere anche una foto con il nipotino dai sì con i pesci perché mi aspetta nel gradino di casa quando rientro da pescare la prossima volta gli raccontiamo cosa faceva tuo figlio Davide quando veniva a casa tua sì 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 adesso è quasi i tuoi metri vai Diego a te i saluti finali ciao ragazzi grazie a tutti ci vediamo martedì per un'altra diretta sempre con argomenti interessantissimi mi raccomando scrivete fate domande in questi giorni ci saranno altri consigli altre catture altri video quindi sarà una diretta bellissima ciao 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 ragazzi un abbraccio a tutti ciao